Bene, allora intanto buon pomeriggio a tutti, benvenuti. Quindi io sono molto, veramente molto contento di questa lettura continua del Morgante che si apre oggi, comincia oggi e per ora diciamo in questa fase pisana per i cantari 1.15 ma poi con prosecuzione fino al completamento di tutto il poema. Come insomma molti di voi sanno io da un po' di tempo sono abbastanza lontano dagli studi pulciani però insomma il mio primo articolo in assoluto era proprio sul Morgante e porta la data 1978. Quindi insomma si va abbastanza indietro e poi lo studio di Pulci mi ha accompagnato ancora per diversi anni. Ma certamente il panorama degli studi pulciani 40 anni e più fa era completamente diverso. Devo dire che allora non sarebbe stata minimamente immaginabile una lettura continua del Morgante come appunto si comincia a fare oggi. Anzi ricordo un fatto ancora più, come posso dire, grave in un certo senso perché il centenario della morte di Pulci nel 1983 passò assolutamente sotto silenzio. Io allora insegnavo in un'università olandese all'Eida e così dal mio eremo tornando a Firenze con i miei maestri fiorentini provai a sollecitare l'idea di fare un convegno appunto. Ma il mio maestro, maestro anche di Alessandro Polcri, Mario Martelli mi disse no lascia perdere, ma che è un convegno su Pulci, ma come ti viene in mente? E poi però Testone ne parlai ricordo anche con Eugenio Garent che allora presiedeva l'Istituto Nazionale dei Studi sul Rinascimento e disse, ma professore, certo un autore così importante, Garent fece un sorrisetto dei suoi così di compiacimento, come dire, lei è proprio matto. Ecco, in effetti insomma era un altro mondo, allora ricordo che insomma di contributi veramente seri, importanti, non avevamo molto, avevamo gli studi di Franca Geno, gli studi di Domenico De Robertis, poi il resto della critica polciana era in gran parte insomma di tipo diciamo idealistico, per non dire impressionistico, penso anche al libro di Giovanni Getto, che è un libro sul Morgante, anche di piacevole lettura, che però insomma serve più a capire una certa stagione della critica letteraria in Italia, che ha insomma una comprensione del Morgante e del suo autore. Ma le cose appunto sono radicalmente cambiate in questi 40 anni, abbiamo avuto studi importanti, molto innovativi, dai vari volumi di Paolo Orvieto, agli studi appunto di Alessandro Polcri, a quelli di Alessio De Caria, no, le edizioni, studi, che hanno radicalmente innovato il panorama, ma penso anche, e non perché è qui presente, perché è un mio amico, ma anche al commento di Davide Puccini, che è un commento pur nella sede, diciamo così, insomma, tascabile, ma insomma molto ricco, innovativo e doveva competere con un modello altissimo, che è il commento di Franca Geno. E poi gli studi di Cristina Cabani, no, che hanno aperto vie nuove veramente alla lettura del Morgante, e poi vabbè ci metto un po' anche i miei, quindi insomma il panorama è molto, molto diverso. Per esempio, per esempio, gli studi sul rapporto con il cantare d'Orlando, non so neanche più come chiamarlo, comunque si voglia interpretare la direzione dei prestiti, dell'imitazione, comunque la si pensi, però sicuramente, insomma, gli scavi che sono stati fatti, ma che ancora sono in corso, e credo che da Franco Astrologo, dal lavoro di Franco Astrologo verranno, insomma, ulteriori novità. Ecco, questo contribuisce notevolmente a una maggiore comprensione del poema di Pulci. Ma penso anche al fatto di come oggi leggiamo il Morgante consapevoli del fatto che il Morgante riflette e in parte recepisce il mondo circostante, la storia non solo culturale ma anche politica. Penso per esempio al fatto che ormai è assodato, che la frattura tra i primi 23 cantari, appunto, più giocosi, divertenti e la tranche finale con i cantari sulla rotta di Roncisvalle, credo sia ormai assodato. Diciamo, per la prima volta, l'ho detto io, ma poi Decaria ha ripreso il concetto approfondendolo, che questo passaggio, diciamo, dalla commedia alla tragedia rifletta la crisi profonda, la crisi politico-istituzionale e poi, di conseguenza, anche militare, relativa alla congiura dei pazzi. In parallelo al resto, come sappiamo bene, con le stanze di Poliziano rimaste interrotte proprio per la morte di Giuliano in quella tragica vicenda. E quindi Pulci non può più continuare sul tono scherzoso, allegro, delle avventure dei primi 23 cantari, deve passare ad una fase di tono completamente diverso e luttuoso. E questo rende anche più plausibile l'interpretazione data inizialmente da Orvieto, ma ripresa approfondita da Decaria, sul fatto che attraverso certi personaggi, pur canonici come Marsilio, però si veicoli tutta una polemica politico-culturale. Marsilio, che in realtà adombra la figura di Marsilio Ficino, che aveva estromesso pulci dalla cerchia, diciamo, degli eletti, dei preferiti del Magnifico. Quindi, insomma, ecco, c'è tutta un'osmosi, insomma, tra il contesto e il testo, che oggi ci è molto più presente. Non dirò chiara perché c'è ancora tanto da fare, c'è ancora tanto da studiare, da approfondire, da indagare, da scavare. Per esempio, ecco, un mistero che rimane è quello della posizione religiosa di Pulci, del pensiero di Pulci riguardo alla religione. Perché com'è possibile che una piadonna come Lucrezia Tornabuoni abbia affidato la stesura di un poema così, che intende celebrare il martirio, l'eroismo, appunto, dei paladini di Francia che si immolano per difendere la cristianità? Ha un miscredente, com'è possibile? Non sta in piedi questa idea. E d'altra parte c'è questa tradizione che vuole che Pulci sia stato sepolto all'umispenti come eretico. Insomma, ci sono delle cose che non tornano, perché poi negli stessi anni, se non mesi addirittura, però, l'imitrofi rispetto alla sua morte, viene dipinto nella Cappella Brancacci da Filippino Lippi in un contesto quanto mai sacro, miracolistico. Dunque, insomma, ci sono delle... D'altra parte poi tutta la rotta viene narrata sulla falsariga del giudizio universale per enfatizzare, appunto, il contrasto tra anime sante e anime maledette di peccatori. E Orlando, secondo tradizione, per carità, però, insomma, Pulci riprende l'immagine che c'è già nella chanson de Roland, di Orlando che muore come un Cristo in croce abbracciato all'elsa della sua spada. Quindi, insomma, c'è qualcosa che non va insieme con l'idea di un miscredente che, appunto, evocava gli spiriti e che considerava che l'immortalità dell'anima fosse una sciocchezza e che, appunto, muore in odore di eresia. Per cui, insomma, c'è molto da fare, ma, ripeto, il panorama è molto diverso e finalmente maturo per una lettura come questa, una lettura, appunto, continua. C'è già un lavoro del genere, come sapete meglio di me, per il furioso, e quindi, anche per la liberata, se non vado errato. E quindi, insomma, credo che veramente i tempi siano maturi anche per un'impresa così. Per cui, chiudo ringraziando molto gli organizzatori e sono veramente contento e orgoglioso che, insomma, un nostro dottorando, appunto, Luca Zipoli, abbia organizzato questo bel lavoro naturalmente in sinergia con Cristina Cabani per l'Università di Pisa e con l'Università di Firenze nella persona di di Luca degli Innocenti, lo conoscerò, l'ho visto bambino, però, vabbè, sono cose che... E poi per, appunto, l'Università di Zurigo, appunto, francastrologo. E quindi, insomma, questa è solo la prima puntata, quella pisana, poi ci saranno quelle fiorentine e zurichesi a concludere. Sono veramente, ripeto, molto lieto che questa lettura possa avere luogo e possa partire proprio qui dalla scuola normale e quindi vi auguro buon lavoro e buon soggiorno a Pisa. Grazie. Grazie. Adesso chiedo a Lina Bolzoni che mi ha preceduto nell'insegnamento qui alla scuola e sono molto lieto anche di essere suo successore. Le lascio, le lascio il microfono e la presidenza. Sono molto contenta di dare inizio alla prima sessione di questo convegno che, come dire, rappresenta, come Stefano diceva, un momento molto importante di un grande cantiere aperto. Quindi grazie a tutti e chiamerei subito Davide Puccini che ci parlerà del primo canto. Come sapete, Davide Puccini, prego, oltre che un critico, anche un poeta, uno scrittore, ha iniziato studiando il Novecento, Camillo Sbarbaro, ma poi, diciamo, i suoi studi hanno riguardato molto anche il Rinascimento, ha curato l'egizione di test di Ariosto, Poliziano e, appunto, come già ricordato, nel 1989 per Garzanti ha commentato appunto il Morgante. Quindi sono molto contenta che lui dia inizio ai nostri lavori e ci parlerà appunto del primo canto. Grazie. Grazie. È una bella responsabilità essere il primo a parlare, ma qualcuno se la doveva assumere. Stefano Garrai parlava di un mistero per quanto riguarda la religione di Luigi Pulci. In effetti Luigi Pulci per tanti aspetti è sfuggente. Lo studio di Giovanni Getto che Carrai ricordava parla di una particolare sfuggente mobilità che sembra rifiutare ogni costante proposta critica per il Morgante. In fondo Benedetto Croce aveva detto qualcosa di simile definendo il Morgante una matassa in cui entrano fili di colore e di fattura diverse ora più grossi ora più sottili. Un poema non bene accordato da un'unica dominante ispirazione. Non c'è niente da fare. Quando credi di essere riuscito a fissare una volta per sempre la fisionomia del Pulci lui se ne esce con una smorfia e cambia espressione. quando credi di averlo saldamente agguantato con un guizzo repertino ti sfugge di mano. Il primo cantare offre già qualche buon esempio di questa imprendibilità che vale sia per l'insieme che per il dettaglio. Cominciamo dunque a leggere In principio era il verbo appresso a Dio ed era a Dio il verbo e il verbo lui. L'invocazione religiosa iniziale come è noto era di regola nei cantari popolareschi ma questa con cui Luigi apre il suo morgante che riprende quasi alla lettera l'incipit del Vangelo di Giovanni suona particolarmente solenne e per di più perfettamente adatta per intraprendere un'opera di parole come notava con finezza Raffaello Ramà nel suo commento. Una parafrasi di Giovanni è presente anche nell'Orlando ben più rozza e approssimativa dove a non di un altro manca un preciso richiamo al verbo. Apro e chiudo subito una parentesi ovviamente c'è dietro tutta la questione dei rapporti fra Morgante e Orlando questione che non posso nemmeno accennare semmai ne posso parlare in nota quando nella versione scritta gli studi di Franco Astrologo mi hanno confermato nella mia opinione tradizionale che questo lavoro che ho fatto per oggi me l'ha di nuovo ribadito e secondo me è proprio il Morgante che dipende dall'Orlando e si vede sia dall'insieme ma si vede soprattutto dai particolari non è possibile facendo il confronto verso per verso che il ci sia un rapporto differente chiusa la parentesi ma era necessaria perché poi all'Orlando faccio riferimento quindi ovviamente non si poteva dare per scontato nell'Orlando siamo ancora vicinissimi al passo evangelico no scusate per ritorno al Morgante dopo i primi due versi il tono muta all'improvviso con un tonfo clamoroso nei due seguenti che dicono così questo era nel principio al pare il mio e nulla si può fare senza costui siamo ancora vicinissimi al passo evangelico e tuttavia l'unica interpolazione in apparenza innocente al pare il mio con il suo carattere di opinione soggettiva su sublime materia dottrinale sembra proprio una zeppa infelice e quanto mai goffa per riempire il verso e ritrovare la rima ed è per giunta una zeppa non infrequente infine diversa nei canterini in generale e specificamente nel nostro anonimo un'occorrenza si trova lì a portata di mano al mio parere proprio all'inizio dell'Orlando e una seconda coincidenza alla lettera poco distante nel secondo cantare dell'Orlando al parer mio uguale esattamente a Tucci ancora in una porzione di testo sottostante al primo cantare ma sorge un dubbio si tratta di un incidente di percorso cioè di uno che non sa scrivere per mancanza per mancanza di sensibilità linguistica o di una scelta voluta abbiamo appena cominciato a leggere e già inafferrabile Luigi ci sfugge con la mutevolezza della sua fisionomia ora in campo religioso dal pulci c'è da aspettarsi di tutto non sto a fare esempi ma li conoscete meglio di me eppure la seconda ipotesi cioè che sia voluta quella zeppa prende subito consistenza come conciliare questa presunta goffagine con la raffinatezza del chiasmo con cui si apre l'invocazione alla Vergine dell'ottava seguente e tu Vergine figlia e madre sposa di quel signor che ti dette la chiave del cielo e dell'abisso e d'ogni cosa quel di che Gabriele tuo ti disse ave sono attributi antitecici di comune uso liturgico e come sapete benissimo già nobilitati da Dante da Petrarca e Petrarca il modello più vicino ma la disposizione è troppo calcolata per essere casuale con Vergine sposa agli estremi e figlia e madre al centro e inoltre nei versi seguenti che ho appena citato il Pulci combina sapientemente due diversi passi danteschi dopo aver chiesto l'aiuto di Dio identificato con il verbo e della Vergine nell'intera terza ottava si indicano con tre parifere la stagione la primavera e l'ora del giorno il primo mattino in cui viene varata la barchetta del poema è appena il caso di aggiungere che la primavera e il primo mattino ovviamente sono anche stagione ora in cui inizia il viaggio oltremondano di Dante qui lui ci dà fondo a tutto il suo sapere in questa ottava saccheggiando il vocabolista da lui stesso compilato probabilmente in anni giovanili sia nella parte mitologica che in quella lessicale nessun'altra ottava del poema può vantare un così alto numero di riferimenti troviamo Filomena il lusignolo Progne la rondine Titone dicono che è marito amante dell'aurora mentre Febo è registrato tra i vari nomi di Apollo e poi c'è il latirismo plurale piangere e orizzonte dove nasce il sole curiosa questa spiegazione Pulci la ripete in un altro passo del poema sempre con questo significato suppongo temo che in orizzonte ci veda Orior perché la spiega sempre dove nasce il sole quindi è indubbiamente il segno di un programmatico impegno culturale alla metafora di origine dantesca della parchetta che torna spesso nel Morgante segue l'allusione a Lucrezia Tornaboni la madre di Lorenzo a petizione della quale Luigi si mise all'opera siamo pronti allora a entrare in media stress non ancora c'è di mezzo un altro proposito culturale e politico l'intenzione di esaltare la figura e le gesta di Carlo Magno in sintonia con il riavvicinamento medicio alla Francia del quale si era fatto interprete Donato Acciaiori con la sua vita a Caroli del 1461 cioè proprio l'anno in cui si ritiene che abbia avuto inizio il Morgante consegnata nelle mani stesse del re Luigi XI nel corso dell'ambasceria guidata da Piero De Pazzi questo proposito di cui il Pulci sembrerà ricordarsi solo alla fine del poema è però immediatamente smentito dopo un accenno alla presunta origine francese di Firenze la forte prolessi narrativa sulla morte di Orlando a Roncisvalle fortissima perché si anticipa alla fine sostenuta da un'esplicita citazione di Inferno 31-16 lasciata in sospeso dopo la dolorosa rotta quando Puntolini che tra l'altro la dice lunga sulla conoscenza del testo dantesco che si fosse in possesso del pubblico dei lettori e l'elenco dei paladini che si trovano a corte ecco che Carlo si fa manovrare come un burattino da cano di maganza sebbene la responsabilità del fatto venga attribuita all'intervento della fortuna maligna da Luigi il quale non di meno evidenzia una contraddizione reale nella conduzione del potere più nelle mani di Orlando che del sovrano è un aspetto questo su cui ha insistito Annalisa per rotta e poi probabilmente lo riprenderà infatti nell'ottavo nel undici si dice Orlando governava infatto e indetto la corte e Carlo Magno ed ogni cosa su cui contraddizione su cui il traditore può far leva così Gano in modo significativo è il primo personaggio abilitato a parlare è il primo personaggio a cui si dedica un discorso diretto per di più gratificato da un discorso di ampio respiro che interessa sia pure marginalmente ben cinque ottave dalla undici alla quindici da undici otto a quindici quattro che questo sia intenzionale è dimostrato dal fatto che l'ottave tredici e quattordici con puntuali rinvii alla spramonte di Andrea da Barberino come per uno scopo di documentazione che testimoni della verità di quanto viene affermato sono state aggiunte nell'edizione 28 Cantari è certo un indizio precoce dello spessore della figura di Gano che se nel poema in 23 Cantari tradisce meccanicamente quasi senza ragione e si caratterizza semmai per la particolare ambiguità espressiva per l'abilità di tenere le parole abbastanza vicine alla realtà da farle risultare credibili ma non tanto da poterne all'occasione essere smentito nel secondo poema sarà invece chiamato a rivestire un ruolo tragico assumendo una dimensione perfino eroica di eroe negativo ovviamente schiacciato sotto il peso della sua colpa della quale è consapevole in ogni momento qui il suo attacco non è insinuante bensì diretto senza mezzi termini e si avvale piuttosto della forza dell'insistenza della ripetizione infatti l'espressione Orlando un giorno di queste parole implica che esse siano state più volte ripetute un giorno vuol dire che le va dette più di un giorno mentre di spiaccoli di gan quel che diceva ma molto più che Carlo gli credeva disegna l'ultimo barlume di razzocinio che rimane nel paladino che Savio per definizione e anche in questo primo cantare Savio l'aggettivo gli ha attribuito due volte Orlando in un bar del docchio si infuria e vorrebbe ammazzare Gano ma Olivieri si mette di mezzo e gli toglie d'Urlindana ormai è completamente fuori di sé manca poco che uccida Carlo e in padronitosi di Cortana la spada del danese di Rondello il cavallo di Olivieri se ne torna a casa nella sua brava oblaia la città di guerra compi l'ira però non gli è ancora sbollita e Orlando che smarrito va al cervello vuol colpire in testa con la spada la sposa Alda che l'ha accolta a braccia aperte è un piccolo anticipo del furioso sebbene le cause siano diverse e nel coinvolgimento dell'incolpevole Alda risuona una nota di comico la prima ma resta la gravità delle azioni del paladino in un colpo in un colpo solo quasi ammazzacarlo non impedisce che gli venga tolta la spada per cui è famoso si impadrinisce in modo illegittimo della spada e del cavallo di altri se la prende con la sua sposa in poche parole perde il suo status di cavaliere cito qui questa espressione di Alessandro Polcri che mi seguirà quindi non insisto su questo poi probabilmente dovrà riprenderlo allora il paladino portato dal furore nonostante che si sia riposato e sfogato qualche giorno con Alda e sfogato con lei decide di passare in Pagania cioè insieme dei territori abitati dagli infedeli luogo deputato di tutte le avventure qui possiamo cominciare a seguire anche la traccia dell'Orlando che essendo mutilo della prima carta nel manoscritto che ce l'ha conservato il medicio palatino 78 della Laurenziana non sappiamo se abbia già fornito qualche spunto ma la messa in scena di Luigi è naturalmente tutt'altra cosa e intanto oltre alla trama sembra prendere in prestito unicamente un diminutivo monachetto come ad accrescere la sproporzione con i tre giganti Passamonte Abastro e Morgante che assediano una badia ai confini tra i cristiani e i pagani tempestandola come sapete di sassi l'abate si scusa se per paura non gli è stata aperta subito la porta ed illustra con efficacia la situazione in un primo momento il suo discorso non esente da una punta di ironia che data la situazione è più dell'autore che del personaggio dice infatti l'abate quando io ci venni al principio abitare sol dalle fiere t'avevi a guardare or ci bisogna se vogliamo starci dalle bestie di bestie guardarci con un doppio senso tra animali domestici e essere animati che hanno una casa uomini ma di natura bestiale puoi ricorre all'autorità di Dante la forza e il malvoler giunto all'ingegno sai che il poltutto che riprende sia un passo dell'inferno che un altro del purgatore varrebbe quasi la pena di citare una variante gustosa del ciriffo calvaneo che ormai dopo gli ultimi studi e l'edizione critica che è stata fatta da Marco Parretti in una tesi di dottorando all'università di Firenze ormai attribuito praticamente interamente a Luigi Luca a cui vimbar attribuito non c'entra più il verso del ciriffo calvaneo dice giunto il vin con la forza al malvolere e se vi fosse congiunto l'ingegno ci sono tutti gli elementi più ci ha aggiunto il vino come crederti a riprova delle sue parole un sasso lanciato da giganti cade sulla groppa di rondello il fatto è già nell'Orlando ma la sceneggiatura del Pulci è ben più complessa per il duplice ridente commento dell'abate e del palatino l'abate citando le scritture aveva ricordato nell'ottava 25 che i pari del deserto non si erano nutriti solo di locuste ma anche dalla manna che preveva dal cielo mentre qui tocca loro ai frati assaggiare e gustare i sassi che piovono dal monte e ora ripetisce il concetto sostituendo direttamente un termine con l'altro tirati drentro cavaler per Dio disse l'abate che la manna casca quindi la manna è direttamente attribuita come metafora diretta del sasso risponde risponde Orlando carabate mio costui non vuol che il mio cavallo più pasca leggo che lo guarrebbe del restio le due perifrasi eufemistiche del palatino che non attenuano ma al contrario esaltano la lettera del testo non sono che le prime una lunga serie in questo e in altri cantari dopo esserci rifucillato Orlando decide di partire all'attacco perché sconsigliato dall'abate che comunque lo benedice il crocion gli fresce in fronte e l'accrescitivo ironizza sull'esagerata solennità del gesto lo scontro con Passamonte è preceduto da una risvolta faceto già presente nell'Orlando vedendolo così piccoletto il gigante gli propone di rifarli da servitore la stessa proposta sarà poi fatta da un altro gigante a Rinaldo e ora si vede una loro aspirazione prendersi un uomo per fante Orlando gli risponde che è venuto ad ammazzarlo non a fargli da ragazzino cioè da garzone termine che il Pucci trovava già nell'anonimo ma fa parte integrante del suo repertorio tanto che compare altre cinque volte nel poema nell'anonimo recupera anche una rima dal districo finale di un'ottava precedente Fromba rimbomba arricchendola con un riferimento al gioco infantile del pome che è un altro suo cavallo di battaglia il quale Orlando non si era partito da bomba c'era rimasto lì dopo le alterne vicende del duello Orlando uccide Passamonte e nel cadere il superbo e villano divotamente Macon bestemmiava lo simolo scherzoso stivotamente bestemmiava torna in altri passi dove è usato non solo a proposito di infedeli così che non si può ricorrere alla spiegazione evidentemente troppo sottile che la devozione risulterebbe bestemmia in quanto rivolta a dei falsi e bugiardi la pratica dell'uccisione dell'abastro è sbrigata più rapidamente ma non prima che il gigante abbia scagliato una pietra molto grossa tante che Orlando bisognò schermisse che se l'avesse giunto la percossa non bisognava il medico venisse ovviamente non c'era bisogno del medico perché sarebbe morto sul colpo la comicità della frase si fonda sulla sua elusiva e allusiva ambiguità che richiede la complicità del lettore nel primo cantare non ci sono ancora quelle locuzioni in funzione fatica del tipo non domandare or pensi ognun non creder guarda non ti dico come pensa che oltre a mantenere il contatto portano il lettore si direbbe meglio l'uditore al centro della rappresentazione ma allo stesso risultato contribuiscono vari espedienti espressivi in primo luogo l'alitote ammiccante che ricorre in tutte le sue sfumature e anche come in questo caso la notazione in apparenza compunta e proprio perciò atta esaltare il nunciato più dell'iperbole cheppure non manca davvero il pulci è veramente artefice di un'alitote iperbolica se si può usare questa contraddizione interna perché l'alitote del pulci aumenta esalta invece di una conferma lo possiamo avere subito dal fatto che anche l'abastro come passamonte morendo bestemmia ma Luigi lo dice ricorrendo a un'alitote che rimanda discretamente all'ossiguro precedente e non dimenticò però Macone e siamo a Morgante che secondo l'Orlando vive in un palacio al pulci bastano pochi tocchi senza modificare il vocabolo palacio per capovorgere la situazione Morgante aveva a suo modo un palacio fatto di frasche e di scheggi di terra quivi secondo lui si posa tacio quivi la notte si rinchiude e serra cioè riposa comodamente secondo il suo concetto di comodità secondo lui riprende da forza a suo modo ed entrambi correggono ironicamente palacio un palazzo per lui in realtà una capanna se non una tana dunque il gigante avvertito da un sogno premonitore in cui Gesù e non Macone lo salva dall'assalto di un feroce serpente quando Orlando lo sveglia invece di combattere con lui gli chiede chi è e se è cristiano e si mostra già disposto alla conversione qui Luigi segue abbastanza fedelmente l'anonimo perfino nella ripetizione della richiesta da parte di Morgante del nome del cavaliere di fronte perché la prima volta Orlando si era limitato a dichiarargli la sua fede e non gli aveva detto chi era le rispondenze sono minute minutissime tutto del Pulci sono invece le tre ottave 50-52 con il pistolotto del paladino che pretende di spiegare il cristianesimo al gigante in 4 e 4 il discorso poggia nella sostanza su vari riferimenti danteschi che si spingono fino all'accezione di mordere colpire con una punizione ma lo spirito è rimedialmente diverso nell'accordarsi volentieri e presto alla volontà di Dio c'è più una solidente sfumatura di timore per il castigo che in caso contrario eseguirebbe che non l'appagamento di sentirsi in armonia con il re dell'universo e della condizione dei dannati che sono nell'inferno in gran confusione è colto solo l'aspetto più esteriore immediato la confusione si sente che è un compito svolto per dovere e dunque qualche approssimazione diventa inevitabile e perfino necessaria per ricondurre una materia tanto alta a dimensioni più familiari il morgante per fortuna è già convertito per conto suo e risponde felicemente con due sbrigative frasi proverbiali al savio sorbastar poche parole morti comorti or pensiam di godere che il pulci prende dal suo vasto campionario la prima che deriva dalla dacia latino intelligente ipaco ed ancora ben viva nella forma al buon intenditor poche parole torna altre due volte nel poema sempre in apertura di ottava la seconda commenta Gianfranco Contini è un caso specifico del proverbiale ogni simile con simile memore dell'evangelico luca 960 sine ut mortu in sepele ant mortus sumos a cui però si può aggiungere Matteo 8 22 si può aggiungere anche che l'invito a godere rientra nello stesso ambito del notissimo verbio toscano il morto giace e il vivo si dà pace la relazione riprende sulla traccia dell'Orlando dove si trova anche l'episodio di Morgante che taglia le mani ai suoi fratelli come prova definitiva della sua conversione il paradino del gigante giungono alla badia e l'abate dopo l'iniziale spavento ammira l'amore di Morgante e riguardava e squadrava Morgante la sua grandezza ed una volta e due costrutto efficacissimo nella sua sintesi disarticolata come se con un solo sguardo non riuscisse ad abbracciarlo tutto qui c'è una piccolissima differenza di punteggiatura che mi piace ricordare Franca Geno razionalizza e pone virgola dopo Morgante forse nel timore che possa prendersi per soggetto anziché per oggetto De Robertis non è un caso perché lo dice in nota che ho seguito nella mia edizione la espunge per sottolineare che Morgante e la sua grandezza equivale in modo visivamente sintatticamente caotico alla grandezza di Morgante è come se appunto la Morgante e la sua grandezza avesse bisogno di questa costruzione così irregolare anche Labate approfitta della conversione di Morgante per fare il suo fervorino religioso non contemplato dall'Orlando resta solenne dal fatto che Cristo rimane solo con se stesso come Dante regola che Pucci non segue sempre ma di una solennità un po' sopra le righe in quell'esempio un certo sproporzionato della conversione di San Paolo sulla via di Damasco si torna però subito sulla scia dell'Anonimo con Morgante che servizievole si rega ad una fonte per attingere dell'acqua con un gran tinello e attaccata da un branco di cinghiali ne ammazza due e li porta ai monaci insieme all'acqua bastano pochi particolari per distinguersi dall'Anonimo quel gambettava detto di un cinghiale trafitto da una freccia che connota lo sgambettare negli spasmi dell'agonia e poi il fatto che pur correndo Morgante non si versa addosso nemmeno una gocciola d'acqua che una gocciola d'acqua non va in seno che ribalta l'Orlando benché dell'acqua gli andava in seno e siamo all'ottava 66 una delle più felici dell'intero cantare che si prolunga nei primi quattro versi della sequente dell'Anonimo Luigi riprende perfino la rima fresca esca incresca ma proprio quando sembra più vicino al modello se ne allontana con decisione i monaci reggendo l'acqua fresca si rallegrono ma più dei cinghiali che ogni animale si rallegra dell'esca e posono a dormire i previali ognun si affanna e non par che gli incresca a ciò che questa carne non si insali e che poi secca sapessi di vieto e le digiune si ristorno indietro e ferna scoppia corpo per un tratto e scuffia che parean dell'acqua usciti tanto che il canse ne dolea il gatto che gli occhi che gli ossi rimanean troppo puliti ora veramente Luigi si trova a suo agio nei propri panni correggia ancora l'Orlando che dice non mostra che ti incresca in cui il paladino a stupirsi che il peso dell'acqua e dei cinghiali non dia fastidio al gigante mentre lui conferisce all'alitote riferendo dai monaci tutto il suo peso è lativo e ammiccante tanto più trattandosi di un'alitote a cui è affezionato e che riprenderà altre volte e poi sullo slancio prosegue per conto suo già ogni animarsi dall'egra dell'esca introduce degnamente la scena animalesca giocando sul detto senso di animale essere animato e bestia ma la comicità spizza soprattutto dalla lunghezza della perifrasi che finge di giustificare la scorpacciata con il darsi da fare perché la carne non si debba salare e così conservata sappia poi di stantio mentre in posizione simmetria nell'ottava verso 4 e 8 ci sono le infrazioni alle regole religiose mettere a dormire i previari etafora che torna anche in un sonetto contro Matteo Franco e trascurare i digini prescritti e finalmente dopo questa dopo tutta questa trattenuta reticenza c'è libero sfogo all'istinto della fame e della gola fortemente espressivo e fermo a scoppia corpo per un tratto per una volta mangiare una crepapelle con scoppia corpo ribadito poi senoramente nel verso successivo da scuscia in una alliterazione fono simboli scoppia corpo non soltanto costituisce prima attestazione del vocabolo ma tutti i requisiti ne sono sicuro al 100% se si può arrivare a questo grado di sicurezza che si tratti di una neofanilazione del pulci la parola non esiste prima del pulci e quindi non è una azione che si pone accanto a tante altre neofanilazioni a voci come dragata colpo dato con un drago oppure quello che secondo me è il più geniale di tutti che è posquacca l'atteggiamento di Luigi nei confronti del linguaggio non è quello passivo di cui si serve di uno strumento difficile da maneggiare bensì creativo e lui si incomincia a intravedere una fiducia tutta moderna nella realtà autonoma della parola e non a caso Leo Spitzer in una pagina di grande rilevo lo poneva come anticipatore di un percorso letterario che ha in Rablè il capostipite universalmente riconosciuto quanto a scusciare è verbo che Dante usa per gli adulatori immersi col muso nello sterco e designa con icastico realismo lo sbuffare rumoroso di chi respira con difficoltà nel nostro caso di chi mangia ingordamente ed ha perciò le prime vie respiratorie ingumbrate da troppo cibo dopo questo culmine si torna alla normale amministrazione ma piena di trovate preziose che arricchiscono il testo dell'anonimo e ci avviamo alla conclusione in primo luogo c'è il siparietto tra Orlando e Morgante non lo direi diversamente che siparietto proprio una scena una gag come sapete Morgante monta un robusto cavallo donato da l'abate e lo schiaccia miseramente sotto il suo peso Pulci commenta forse non credeva schiacciare l'uova e poi dopo la finta sorpresa del gigante finta chissà per ciò che è successo dice Morgante io sono pur legger come penna presta Orlando la sua reticenza allusiva in funzione ironico-comica dice Orlando la fortuna accenna che meco a piede ne venga Morgante dove la delicatezza e la vaga incertezza di quella accenna pare indicare così in contrasto con la fine più evidente del povero cavallo è appunto un piccolo capolavoro Morgante non è da meno è Orlando che prospetta la difficoltà di portare il corpo dell'animale in qualche bosco risponde io il porterò ben io da poi che portar me non ho voluto per rendere ben per mal come fai Dio l'orgogliosa ripetizione del pronome personale sembra quasi replicare la distanza a quella che il paladino aveva adoperato nei suoi confronti in funzione diametralmente opposta molto prima all'ottava 47 volsi tu usi anche tu umiltà mentre con le parole seguenti mostra di aver già sapere già tutto della religione appena abbracciata e ci scherza sopra rendere ben per mal come fai Dio e quando poi si vanta iperbolicamente di portare via sulle spalle il cavallo morto insieme al campanile con tutte le campane entra in scena anche l'abate ricordando con un sorriso malizioso che il campanile va bene ma le campane voi l'avete rotte in questo modo lui ci recupera dopo un lungo intervallo e metta a frutto un particolare si trova addirittura ripetuto quasi all'inizio dell'Orlando nell'ottava sesta del primo cantare di cui non si era servito il cantare si conclude lasciando il lettore in sospeso come già nell'anonimo Orlando vede raffigurata sul muro di una stanza la storia del suo padre Milone che nei pressi dell'abadia aveva acceso un gigante il cui usbergo è ora indossato da un morgante l'annizione con la scoperta che in realtà l'abate è il cugino di Orlando si avrà solo nel cantare successivo l'espediente era usato dai canterini di piazza per mantenere vivo l'interesse del pubblico ma il pulci rovina ogni effetto di suspense perché ha già avvertito il lettore fin dall'inizio anticipando oltre 60 ottave prima che l'abate è della stippe di chiaramonte mentre nell'anonimo non vi è traccia di questa anticipazione all'ottava 20 aveva detto l'abate si chiamava chiaramonte era del sangue disceso dal grante ecco un altro piccolo mistero l'ha fatto volutamente difficile affermarlo certo è probabile che prima di mettersi a scrivere avesse letto una parte dell'Orlando un po' più consistente di quella che gli serviva nell'immediato e forse la discendenza dell'abate gli è venuta in mente per caso in modo intempestivo ma non possiamo nemmeno ipotizzare l'influenza della rima perché si tratta dei primi due versi dell'ottava francamente non si vede la ragione per cui il poeta avrebbe operato in piena consapevolezza una scelta del genere pensare che abbia proprio voluto prendere le distanze da mezzucci dei canterini sembra una spiegazione poco fondata e non in linea con il carattere dei suoi rapporti con l'anonimo più impressivo che riflessivo così Luigi scoiattolo della penna continua a sfuggirci quando finalmente crediamo di averlo afferrato e meno ce l'aspettiamo grazie grazie a Davide Puccini per questa lettura raffinata ravvicinata appunto dal primo cantare ora passiamo a Alessandro Polcri e avremo la discussione dopo le prime due relazioni Alessandro Polcri ha studiato a Firenze poi ha fatto un dottorato a Yale ora è professore alla Fordham University tra l'altro è stato fellow a Villa Itatti e tra i suoi studi diciamo che hanno riguardato soprattutto il Quattrocento tra Ferrara e Firenze vorrei ricordare un libro molto importante Luigi Pucci e la Chimera studi sull'allegoria nel Morgante quindi a te la lettura del secondo cantare grazie grazie mille mi sentite vero? grazie a tutti per i magnifici quattro organizzatori per l'invito molto gradito ringrazio Maria Cristina Cabani Luca degli Innocenti Franco Astrologo e Luca Zipoli è un grande onore essere qui per me e non so esattamente cosa significhi fare una lettura del Morgante come immagino molti di voi perché stiamo entrando in una unknown land una terra sconosciuta e però ci provo e faccio la mia parte dedicandomi a cantare due e cercando di stare il più possibile vicino al testo allora il cantare due è una hub diegetica uno snodo narrativo dove nascono alcuni importanti segmenti di lunga durata dopo la fuga da Parigi Orlando viaggia in Pagania dove incontra Morgante e l'abbate Chiaramonte si tratta di una fuga che dura fino al cantare ottavo dove una nuova minaccia nata dall'ennesimo inganno di Gano riporta i paladini a corte precisamente arriveranno a Parigi nel cantare decimo ma vale la pena ricordare che tutti i fatti narrati fino al cantare ottavo sono la diretta conseguenza dei fatti narrati nel cantare secondo e ovviamente nel primo in una coesione narrativa davvero notevole nello specifico il cantare secondo narra quattro episodi tutti collegati ve li riassumo molto velocemente Orlando e Morgante lasciano l'abbate Chiaramonte in cerca di avventura e sono indirizzati dall'abbate verso la città di Caradoro assediato da Manfredonio innamorato di Meridiana la figlia di Caradoro i due amici Orlando e Morgante decidono di partire e lasciata l'abbadia dei monaci incontrano un castello dove restano imprigionati mi sentite così? e da cui possono uscire solo se si libera solo se liberano un diavolo battezzando Morgante i due finalmente liberi proseguono verso il campo di Caradoro ma presso una fontana incontrano Chimento il messo di Rinaldo che sta cercando proprio Orlando e trovano anche il messo di Gano che viene poi ucciso da Morgante il cantare si conclude con l'arrivo al campo di Manfredonio che li accoglie calorosamente e li ingaggia contro Caradoro i due amici dunque finiranno per schierarsi con la parte sbagliata se dunque a livello generale assistiamo allo sviluppo delle prime imprese iniziate nel primo cantare e riguardanti gli effetti della fuga di Orlando in Oriente veniamo anche a sapere che a Parigi sono cominciate le operazioni di ricerca del paladino che appunto viene raggiunto dal messo Chimento quello di Gano invece era stato inviato per trovare e uccidere Orlando fin da subito dunque viene implicitamente suggerito al lettore che il ritorno in Francia sarà l'inevitabile destino di Orlando e fin da subito si capisce che il paladino non potrà vagare a lungo in Oriente in altre parole sebbene Orlando per ora faccia tornare Chimento da Rinaldo a mani vuote nasce nel lettore l'aspettativa che Orlando prima o poi si ricongiungerà con Carlo come si vede il cantare secondo è molto ricco di eventi alcuni dei quali avevo provato ad analizzare in dettaglio nel mio libro ma ogni lettura è necessariamente parziale dunque tenterò di aggiungere altre considerazioni la prima riguarda la compattezza del cantare organizzato a livello narrativo con ben studiati passaggi da un episodio all'altro con un effetto di concatenazione notevole che poi continua anche nei cantari successivi la coesione del resto è già evidente nella transizione della trama dal primo al secondo cantare e in particolare quando si legge l'evocazione ottava 1 tutta di invenzione pulciana dove pur nella topica e tradizionale formularità canterina tipica delle invocazioni richieste di aiuto per riuscire a gestire la materia narrativa e per terminare la storia si percepisce come vera la volontà di narrare e portare a conclusione una storia unitaria a questo proposito mi pare che nell'ottava di invocazione non sia stata ancora discussa la ragione della presenza del riferimento alla discesa di Gesù agli inferi per liberare le anime di coloro che morirono prima della sua venuta e resurrezione l'ottava 1 fa così o giusto santo eterno monarca o sommo giove per noi crucifisso che chiudesti la porta onde si varca per ire al fondo dello scuro abisso tu che al principio movesti mia barca tu sia il nocchiere intento sempre fisso alla tua stella e la tua calamita che questa storia sia per te finita quindi la frase chiave è perire al fondo dello oscuro abisso non era sfuggita a Davide Puccini l'incongruenza degli interpreti che leggevano il passo come la descrizione della chiusura della porta dell'inferno perché nessuno potesse più uscirne infatti come giustamente dice Puccini e cito a questa interpretazione fa difficoltà il verso 4 Pulci avrebbe dovuto dire per uscire dal fondo dell'abisso nonché il fatto che in un'invocazione pare opportuno evidenziare il salvatore piuttosto che il giudice fine citazione ora si potrebbe provare a spiegare quel perire tenendo presente che nel racconto della discesa di Gesù i giusti vengono liberati e pertanto non sono più prigionieri dell'abisso o giusto del resto è una parola chiave e a ben vedere non è affatto casuale che sia la prima a risuonare in apertura dell'ottava essendo il viaggio di Gesù agli inferi un viaggio di liberazione dei giusti e in questo senso credo che vada letto il verso chiudesti la porta onde si varca perire al fondo dello oscuro abisso Gesù liberatore dei giusti dunque sarebbe un salvatore più che un giudice e la giusta osservazione di Puccini troverebbe una coerente conferma il passo dunque potrebbe volere dire che Gesù avendo liberato i giusti ha chiuso la porta attraverso la quale i giusti prima della sua venuta andavano nell'oscuro abisso ora invece con la morte e la risurrezione di Gesù i giusti avranno un altro destino e non devono più ire al fondo dell'oscuro abisso ora tutta questa disamina sarebbe non proprio necessaria se l'ottava 1 di invocazione fosse solo un puro espediente retorico e di genere cioè nulla più appunto di una topica e formulare invocazione ad apertura di cantare va detto invece che le invocazioni di Pulci sono generalmente pertinenti alla narrazione che anticipano e comunque lo dico tra parentesi sono tutte estremamente belle e poeticamente raffinate e anche questa del cantare 2 non fa eccezione dato che proprio il tema della discesa nell'abisso e più latamente il tema simbolico dell'alto e del basso viene richiamato nel corso delle ottave del secondo canto in momenti narrativamente importanti si tratta in particolare di due episodi l'imprigionamento nel castello e la discesa nella cripta dove si trova la tomba del diavolo e il secondo il vanto di Morgante dopo che il castello è sparito una volta salutato l'abate chiaramonte Morgante e Orlando si avventurano nel deserto seguendo le indicazioni ricevute dall'abate e camminano verso la città di Caradoro Morgante è un paladino rabberciato vestito con un'armatura rugginosa e armato con un battaglio di campana il gigante va a piedi non potendo possedere un cavallo e accompagna Orlando il loro è un vero e proprio compagnonaggio e con questo primo viaggio insieme inizieranno una serie di peripezie che termineranno temporaneamente solo con il rientro nella comunità dei cristiani a corte prima di arrivare alla città di Caradoro si imbattono in un castello che è il primo episodio del poema in cui i due compagni vivono insieme un'avventura cavalleresca qui importa per ora notare solamente che tutta l'avventura al castello è la rappresentazione di una discesa ad Inferos dove avviene pure una liberazione del diavolo e degli stessi cavalieri prigionieri e la sparizione per sempre del castello mi riferisco alla funzione liberatrice del battesimo di Morgante che comporta l'iniziazione cristiana del gigante e dunque la sua liberazione dal peccato ma anche la liberazione del diavolo imprigionato nella tomba dall'incantesimo di un negromante ma vorrei invece evidenziare come tutto l'episodio sia una diretta variazione dell'episodio della discesa di Gesù agli inferi menzionato nell'ottava di invocazione e della potenza liberatoria degli effetti di tale discesa al medesimo immaginario come ben si comprende è legato anche l'episodio del vanto di Morgante che sparito il castello non contiene la sua esuberante sfrontatezza e prorompe in un divertente eccessivo e iperbolico vanto in 237 dice a Morgante e mi darebbe il cuore che noi potremo ora nell'inferno andare e far tutti i diavoli sbucare per circa quattro ottave da 37 a 40 Morgante con questo tenore verbale immagina di fare strazio di diavoli e però anche di salvare le anime infelici 238 se si potessi entrare in qualche loco che nel mondo è certe bocche si dice don dei si va che di fuor getta un fuoco e non so chi vandò per Euridice io stimerei tutti i diavol poco noi ne trarremo l'anime infelice e taglierei la coda quel minosse se come questo ogni diavol fosse e Morgante continua immaginando una serie di scontri smisurati con il meglio della diavoleria disponibile tutti duelli immaginati con un appetito fanciullesco e con una iperbolica energia sfrontata e incontenibile disposta addirittura a compiere l'impossibile cioè liberare perfino le anime dannate in un libera tutti comico che però è anche allo stesso tempo un evidente dialogo ancora una volta con la prima ottava e con il verso perire al fondo dell'oscurato abisso alle parole di Morgante però Orlando oppone un invito quasi un fraterno rimprovero a seguire invece la strada più semplice e a non complicarsi la vita in 241 1 4 quando tu puoi Morgante ir per la piana non cercare mai nell'erta nell'ascesa o di cacciare il capo in buca o in tana andiamo pur per la via nostra distesa è questo un passaggio delicato siamo lontani dall'idea di perseguire una saggia moderazione le parole di Orlando non sono come ci aspetteremmo un invito alla medietas all'equilibrio per contenere gli eccessi e per seguire il bene ma risuonano invece come una rinuncia una rinuncia a schierarsi a prendere posizione andiamo pur per la via nostra distesa un monito a non cercare mai né l'erta né l'ascesa ritorna ancora un eco del tema dell'ottava iniziale riguardo al tema dell'alto e del basso per esempio a non compromettersi con i due estremi propri delle azioni di un vero paladino di Cristo capace appunto di combattere le cadute nel peccato e salire verso le vette della redenzione non dimentichiamo del resto che Orlando è in fuga dalla corte vittima della propria incontenibile ira ha poi perso Durlindana lo ricordo la prima Cini e Vegliantino e ha rubato Cortana il rondello spada e cavallo di Ugeri il danese come ricorderà al messo Chimento il paladino dovrà ancora camminare a lungo prima di ritrovare le sue legittime armi e il cavallo e con esse il proprio equilibrio e la condizione di cavaliere legittimo avverrà in 7 nel canto 7 47 48 e la perdita e il ritrovamento delle armi è una specie di topos che ricorre in molti poemi il morgante non è da meno siamo ora arrivati nella seconda parte del cantare 2 le ottave 37 41 con il vanto di Morgante e la risposta di Orlando segnano uno snodo narrativo importante perché se recuperate nella prospettiva che sto cercando di descrivere di un Orlando moralmente intiepidito paiono coerenti con quanto accade nella successiva parte del cantare dove Orlando parla con il messo Chimento e sono le ottave 41 59 e dove il paladino dalla ottava 59 alla fine finalmente arrivato al campo di Manfredonio sceglie per motivi non a caso superficiali di aiutare l'assalitore invece che l'assalito parteggiando per la parte sbagliata dei due contendenti Orlando infatti cede subito di fronte all'accoglienza di Manfredonio c'è una frase bellissima che dice in 263 2 preso ma avete col vostro parlare Orlando ascolta Manfredonio che lo invita e lo assolda e lui subito si fa prendere dalle sue parole Orlando dunque come conseguenza del furore che lo ha fatto fuggire si è perso in Pagania e pare vagare senza una meta precisa l'unica stella polare di cui dispone è l'indicazione ricevuta dall'abate all'inizio del cantare 2 del resto è proprio nel dialogo con il messo Chimento in 4159 che scopriamo la vehemenza del rancore di Orlando verso Carlo e verso la corte ma vediamo i fatti Orlando e Morganti arrivati a una fontana incontrano due corrieri che litigano e si bastonano si viene a sapere che uno dei due è Chimento inviato da Rinaldo alla ricerca del cugino e l'altro senza nome è invece stato inviato da Gano per uccidere Orlando dopo che Morganti uccide in modo piuttosto crudo il messo di Gano e si noti che Morganti non potendo sapere che sia Gano lo uccide solo perché sente Orlando lamentarsi della costante persecuzione da lui subita a causa del Maganzese Orlando rivela a Chimento di essere colui che stava cercando e dal dialogo tra i due impariamo alcune cose importanti veniamo per esempio a sapere che Orlando non vuole tornare a corte per l'offesa subita e raccomanda a Chimento di riferire la sua storia e le sue ragioni così facendo noi ascoltiamo narrata di nuovo ma questa volta in prima persona la vicenda che abbiamo letto nei primi due cantari in particolare è interessante che Orlando si descriva come condannato a vagare senza meta questi alcuni passi 47 6 vo pel mondo disperato 48 3 e io pel mondo vo peregrinando 48 5 6 digli dove trovato e come e quando tu mai qui solo e povero e mendico 49 5 6 tanto che io me ne vo in pagania pur come vogliono le volubi roti della fortuna e 50 siamo arrivati alla fine e che io non so io stesso dove io mi vada o dove ancora mi guidi l'avventura al danese in 52 7 8 raccomanda raccomanda a Chimento di dire al danese che si ricordi del suo caro Orlando che va pel mondo sperso or tapinando dunque senza una meta precisa Orlando Cavaliere è degradato moralmente a questo si aggiunga anche un passo importante che leggiamo nella già menzionata ottava 50 dove Orlando si descrive per la prima volta come trascinato dalla shagura sono molto attratto da questa parola shagura e anche sentire magari cosa ne pensate voi letture differenti dice Orlando a 56 8 andrò dove mi portami a shagura poiché consente a cercare la mia morte e sarebbe Carlo dice Orlando e che mai più non tornerò in sua corte cioè di questo sono le parole che lui raccomanda di dire a Carlo raccomanda a Chimento mi pare che Orlando shagurato sia abbastanza raro nel poema cavallerisco cioè proprio associare la parola shagura a Orlando andrebbe fatta una ricerca lessicale io ho provato un po' e devo dire che gli unici l'unico che casi gli unici casi sono nel Morgante sono quasi sempre associati ad Orlando poi invece per esempio l'Orlando innamorato dopo ne avrà di più non necessariamente legate ad Orlando però però la parola shagura deve avere una storia che io non conosco e che andrebbe studiata e dunque sia raro nel poema cavalleresco ma questo ovviamente andrà verificato meglio e comunque andrò dove mi porta mia shagura non è nell'Orlando laurenziano dove il verso non compare e dunque è sicuramente di pulci indipendentemente da come sia il rapporto tra i due poemi recentissimamente ribaltato con interessanti argomenti anche da Paolo Orvieto in un libro che è uscito che è un mese fa per la Salerno Editrice la dialettica tra Orlando e Chimento è serrata Orlando dice che andrà dove lo porterà la sua shagura e Chimento invece ascoltata la storia del paladino cercherà in vano di convincerlo a tornare dal loro dialogo emergono le due filiere narrative del poema l'allontanamento dalla corte e il ritorno a corte fino al tragico finale di Roncisvalle è una specie di dialettica assisto alle diastole che un po' tutto il poema prima di Roncisvalle vive respira in questo modo andare a corte e scappare da corte di più paladini Orlando ma anche Rinaldo che replica molte delle avventure di Rinaldo le parole di Chimento sono molto acute insistono sugli affetti e sulla diffusa angoscia creata a corte dall'assenza di Orlando a queste parole poi inaspettatamente Chimento aggiunge un apologo o una novelletta la prima del poema or vi vuol dire una mia novelletta che spesso alla ragione lo esempio vuole dice Chimento cerca di convincerlo questo è un altro punto estremamente oscuro del del morgante questa novelletta e le novellette in genere si tratta della storiella di una piccola formica che vagando per il mondo si imbatte in un teschio di cavallo una volta entrata e raggiunta la parte dove era il cervello la confonde per la dimora di un ricco signore continua a cercare in ogni parte senza però trovarvi cibo pentitasi dell'impresa torna nel suo piccolo buco Chimento finito di raccontare il piccolo exemplum supplica Orlando di ricordare amici e parenti il grande amor mi sforza a quel che io dico parole di Chimento riconoscete cioè ricordate e gli amici e i parenti l'andare così per il mondo è pure ostico dice Chimento a Orlando andare per il mondo è ostico è dannoso è doloroso ma Chimento non convince il paladino Orlando si emoziona ma non cede e tra le lacrime e sospiri se ne va salutandolo affettosamente ora credo valga la pena chiedersi perché una simile storia dovrebbe convincere Orlando a tornare a corte del resto lo stesso Chimento Chimento se ne scusa quando dice chi mi ascolta perdoni i miei errori e capisca le mie semplici storie con le sue conoscenze a 57 2 5 perdonimi se io fallo chi mi ascolta e intenda il mio vulgar col suo latino io vo che a me crediate questa volta e ritorniate al vostro carcugino prova a fare delle ipotesi sul perché Chimento Chimento narre a Orlando la novelletta della formica innanzitutto la formica alla fine della storia e dopo molto errare torna a casa ed è dunque un modello di ritorno ma nella storia si nasconde anche l'ammonimento a non fraintendere la verità come quando la formica confonde un teschio per una lussuosa dimora ritenendo prezioso e affascinante ciò che è vuoto e morto un rischio che corre pure Orlando perso in Oriente lontano dalla corte a questo si aggiunga che l'avventura della formica forse richiama anche se molto maldestramente qualche tratto dell'avventura di Orlando e Morgante nel castello pure loro vittime del fraintendimento di verità e finzione e l'assenza di cibo della formica pare il rovesciamento dell'abbondanza di cibo nel castello così come il teschio è creduto un palazzo e l'area del cervello è creduto una bella stanza abitata da un padrone assente come era creduto assente il padrone del castello che poi si è rivelato essere parrebbe il diavolo nella tomba ma per quanto sforzo si faccia a giustificare la presenza la forza sua soria della novelletta pare debole i due compagni quindi resta una specie di domanda a cui continuando a lavorarci proverò a dare una risposta più approfondita spero i due compagni finalmente arrivano al campo di Manfredonio sto chiudendo e sono di fatto coinvolti in una storia d'amore non corrisposto che devono dirimere siamo anche in questo caso in una situazione estrema creata dall'eccessivo sentimento che prova Manfredonio di cui in 2 14 4 l'abate dice e fa gran cose come amore consente come amor consente e la sua gagliardia è al servizio del sentimento esagerato di amore per meridiana lo stesso Orlando si accende di desio quando ode la storia di Manfredonio raccontata dall'abate chiaramonte e dichiara all'abate di volersi di volere trovarsi fra le genti armate in 2 16 e cioè tra i soldati di Manfredonio davanti ai due compagni si apre dunque un nuovo suggestivo scenario visibile dalle colline che si affacciano sulla pianura dove sono le tende innumerevoli Orlando già completamente soggiogato vedendo l'accampamento gioisce di questo molto se ne rallegròe 261 inizierà ora un nuovo ricchissimo racconto che si protrarrà per diversi cantari complicato dall'arrivo di Rinaldo partito in 232 alla ricerca di Orlando con cui presto dovrà fare i conti un cugino schierato in Bonham e l'altro in Malham partem Rinaldo sarà fieramente contro l'assedio insensato causato dalla sfrenata voglia di Manfredonia di Manfredonio come si dirà chiaramente in 8 nel cantare 8 6 7 la sfrenata voglia è ciò che descrive il sentimento di Manfredonia lascio dunque qui a fine cantare 2 Orlando ancora confuso e in attesa che si ravveda grazie grazie Alessandro per questa lettura molto stimolante che introduce poi una serie di questioni che saranno riprese anche in seguito ad esempio appunto il personaggio di Orlando così come compare la funzione strutturale che in questo canto ha la discesa di Cristo agli inferi il tema quindi la liberazione dei giusti adesso abbiamo tempo quindi per discutere le prime due relazioni quindi chi è che vuole intervenire allora io volevo fare due domande per i due le due letture dunque la prima riguarda appunto il famoso esordio principale del Morgante no con quella citazione interrotta cioè sembra quasi incredibile che Pucci l'abbia scritto quello lì quando ha iniziato il Morgante cioè l'impressione che non è difficile da provare però perché c'è anche nella cosa inventita i cantari l'impressione che quell'esordio lì sia stato in qualche modo o scritto o aggiustato no alla fine cioè è un'impressione che logicamente sembra sembra appunto proprio così anche con quell'espediente lì della citazione interrotta se no voglio dire in un poema tutto sommato bipartito abbastanza sbrindellato nell'insieme dal punto di vista della struttura quel tipo di raccordo lì a me fa molto l'impressione di una di un intervento successivo questo è un dubbio che ho sempre avuto e te lo volevo porre la citazione dantesca interrotta ma anche l'anticipo di Roncisvalle cioè dantesco e tutto quanto cioè però ecco quando la domanda è quella lì la seconda domanda invece è per il secondo alla seconda lettura allora uno se questi esordi questo corrispondenza tra l'esordio e poi la materia del canto ti è capitato di riscontrarlo in altri cantari o se solo in questo tu invece è più un dubbio di fondo cioè come si fa a ignorare che comunque soprattutto nei primi cantari Pulci sta riscrivendo l'Orlando quantomeno lo segue passo passo per cui allora cos'è un'operazione di risemantizzazione oppure queste cose qui si trovavano già nella sua fonte in ogni caso ecco credo che non si può prescindere comunque da quel confronto lì ecco queste sì magari per rispondere vi chiederei di andare al tavolo sì perché anche da casa così di a po' se così vi tenisco con il microfono no di nel senso che noi non possiamo sapere quando se no appunto almeno io non ci sia differenza fra l'edizione in 23 cantari e quella in 28 quando il pulci si è intervenuto ma anche qui c'è un mistero Non tanto per la citazione frantesca, ma dicevo in materia di religione ci si può aspettare da Luigi qualunque cosa. C'è un mestiere ancora più grosso, però io l'ho citato, ma ovviamente non l'ho detto perché non mi riguardava direttamente. Per quanto riguarda le invocazioni religiose, dove qui noi abbiamo il dubbio del primo cantare se quella al parer mio ce l'ha messo apposta per rovinare l'altezza del tono oppure no, sapete tutti che all'inizio del cantare ventesimo c'è il Magnificat, completamente sbagliato, stravolto, con il cambio tra soggetto e oggetto, che è un errore ovviamente gravissimo, tanto più in un momento in cui di solito il Magnificat si citava in latino, dove quindi il problema sia che l'alma mia magnifica il Signore, è chiaro che l'anima che magnifica il Signore e non il Signore che magnifica l'anima. Sapete anche perfettamente che questo strafalcione religioso, il Pugli lo corregge un paio di cantari tu, all'inizio di un'altra invocazione. Questo ci pone un problema grossissimo, cioè come se il Morgante fosse una cosa scritta, quindi fissata nel momento in cui aveva detta e che non si poteva correggere. Ma come? Uno si accorge che ha sbagliato una cosa del genere, che non è un bruscolino, non è che ha sbagliato una virgola, cioè ha sbagliato l'interpretazione di una delle più famose invocazioni cristiane e ce lo lascia l'errore e lo corregge soltanto due cantari dopo. Poteva intervenire? Certamente sì, quantomeno poteva intervenire nella edizione 28 cantari. Cosa ne dobbiamo concludere? Forse che il Pugli voleva proprio dimostrare che lui era capace di correggersi. Se si fosse corretto non avrebbe dimostrato che era capace di correggersi. Voleva proprio far vedere che lui, per quanto sia così un strampalato in maniera di religione, in realtà poteva correggersi. E la stessa cosa può riguardare questo. Diventa, a parte impossibile ovviamente rispondere a queste domande, perché sono tutte ipotesi, ma anche lì quell'anticipazione è poi così interrotta. Sembra quasi che proprio perché Carlo Magno, l'esaltazione di Carlo Magno, quindi di Orlando, che è legata a quella di Carlo Magno, chiaramente nel primo cantare non sussiste, anzi tutto il contrario, Carlo Magno è un burattino delle mani di Cano, sembra quasi che anche quella ce l'abbia messa dopo per riallacciarsi poi a quella che è la conclusione, però ce l'abbia messa dopo il cantare. Però sì, dubbio, un altro dei tanti dubbi che non ce lo fanno possedere. Grazie per le domande. Dove premere questo? Eccolo, ce l'ho fatta anch'io. Grazie delle domande. Non so, io per quanto riguarda le invocazioni iniziali, forse leggendo sono apparto troppo assertivo in questo senso, nel senso che è più una specie di campo di ricerca in questo, anzi, contavo nell'aiuto del gruppo, essendo i convegni proprio questo, dei laboratori, in questo senso, butta un'idea e poi magari uno ha letto qualcosa che supporta o nega. Ho la sensazione che le ottave di inizio abbiano un grande valore, per Pulci non siano solo la formularità canterina che gli si attribuisce sempre. Trovo che siano generalmente, come dicevo, molto belle, artisti, poeticamente, quindi già questo è un valore in più aggiuntivo. Che nelle ottave ci siano dei riferimenti alla narrazione che segue, lo credo, è un atto di fede in questo senso, non lo posso ancora verificare, mi prometto di farlo, e non so se c'è qualcuno che ha studiato proprio le invocazioni sistematicamente, non me lo ricordo, non mi risulta, ma è effettivamente un agareffio, ma l'ombra del morgante, quella lì. Sì, non mi pare che ci sia però niente di sistematico, quindi ce ne sarebbe bisogno perché credo che siano state sempre trattate in modo, come una cosa minore, ecco, nella produzione, formulare e così canterina, ecco, con tutta l'accezione negativa che si può dare a questo aspetto. Per quanto riguarda il rapporto con l'Orlando è, come dicono gli inglesi, the elephant in the room, è l'elefante nella stanza, cioè una cosa che facciamo tutti finta di non vedere e che in realtà c'è, e in effetti è molto importante. Anche quando ho scritto il mio libro ho cercato di… non è facile, in effetti cambia molto la prospettiva. E ora io, per quello che ho visto dall'ultimo lavoro che ha pubblicato Paolo Orvieto ora, ho la sensazione che le cose siano molto complesse, non semplicemente Pulci ha ripreso l'Orlando. Perché Orvieto fa un lavoro nuovo sul lavoro dei canterini, usando molto il lavoro di Luca degli Innocenti, tra l'altro, e facendo vedere, non ho ancora letto tutto il libro, ma facendo vedere che l'Orlando è una riscrittura in chiave canterina del Morganti ed è una riduzione in chiave canterina del Morganti. Ora, è un'ipotesi che lui aveva già fatto anni fa. C'è poi una seconda strada, che è quella che propose Martelli nel suo Oltre Studi, che è un compromesso tra questa posizione e quella che dice no, è il contrario, il Morganti riprende dall'Orlando. E cioè che ci fosse un Ur Orlando, da cui hanno attinto poi i due estensori Morganti, Pulci e l'anonimo autore dell'Orlando, usando il Morganti per correggersi, tra l'altro, nell'Orlando. Questo è quello che diceva Martelli. È un campo aperto di ricerca, l'aspetto canterino però ha un suo peso. Bisogna leggere quello che dice Orvieto, dicendo che molte volte, fa anche degli esempi, e Luca tu forse lo puoi dire questo, ci sono dei poemi cavallereschi che sono stati ridotti per i cantampanca, cioè sono stati presi, trascritti come delle reportazioni in sito, mentre l'autore nobile recitava il suo poema, venivano trascritti a mano, con errori fraintendimenti, e poi adattati e tagliati per tutta la struttura dei canterini. L'Orlando sarebbe uno di questi. dove ci sono delle cose che effettivamente tornano rispetto, però per quanto riguarda l'interpretazione, io direi che la materia è quella che conta, nel senso che Pulci, mi rendo conto che è un compromesso, però effettivamente la materia, non possiamo fare finta che, la materia del Morganti, fare finta che il Pulci, mentre la scriveva, la copiava, l'aveva risentita, ipotizziamo tutto quello che vogliamo, ma non possiamo ignorare che per Pulci potesse esserci un significato, una struttura, un'idea di letteratura dietro, perché un po' la appiattiamo noi, la creatività di Pulci, su questo progetto dell'Orlando, e rischiamo di buttare via il bambino con l'acqua sporca, in pratica, facendo di Pulci soltanto un rifacitore che è geniale, appunto lingua sublime, ma che dal punto di vista di ideologia letteraria, allegoria, etica e morale, non c'è, non c'è nulla. Luca, tu avevi... Poi c'è una domanda da partire, faccio qui. Ecco, se ci sono domande, per me possiamo rimandare una mia eventuale precisazione sull'argomento ad libitum, temevo che prima o poi arrivasse. Speravo di evitare questo macigno in Quinciam, però inevitabilmente più all'ultimo. Siamo solo al cantare due e già mi tocca. Non so, chiedo anche a Lina Bolzoni se posso precisare tre cose in cinque minuti, cinque. Io sono stato in contatto con Orvieto perché mi aveva preannunciato questa sua ennesima precisazione sulle questioni del rapporto Orlando-Morgante e non ho avuto il tempo di dirgli onestamente il mio pensiero, però credo che le argomentazioni che basa sulle mie ricerche vadano sostanzialmente rovesciate. Cioè le mie ricerche provano semmai il contrario, che l'arte dei canterini faceva quello che fa Pulci rispetto all'Orlando. Prendevano un canovaccio grigio e lo arricchivano di una serie di esplosivi colpi di scena, giochi di parole, pezzi di repertorio che rendevano lo spettacolo più appassionante e non contava la trama, contavano gli effetti speciali. Quindi se vogliamo questo è semmai un argomento che va nella direzione opposta. Pulci avrebbe fatto rispetto all'Orlando quello che poi la mia ricerca fondamentalmente si basava sui cantari dell'Altissimo che sono del 1514-15, quindi dopo l'Altissimo impara tanto da Pulci, impara proprio a trasformare, amplificare retoricamente il canovaccio che prende dal primo libro dei Reali di Francia di Andrea da Barberino. Prende un romanzo in prosa e lo trasforma in uno spettacolo in ottave. Quindi, a prescindere da quello che si pensi dei rapporti fra Orlando e Morgante, direi che le mie ricerche non servono a dimostrare e che il rapporto è rovescio rispetto a quello che ormai molti pensano. Grazie. Spero che c'è una richiesta di domande da parte di la seguito. Come possiamo dargli la parola? Sì, Cristina Montagnani se vuole aprire il microfono e magari anche la telecamera può intervenire. Non apro la testa perché ho una connessione un po' debole ballerina. E complimenti a tutti, saluti a tutti, mi piacerebbe essere lì con voi, eccetera. Non tocco il tema dell'Orlando Laurenziano del Morgante perché è, come dire, l'abbiamo già visto dalle prime parole. È esplosivo, è difficile. Mi fermo su una cosa che sta dicendo Alessandro che ha iniziato a dire Alessandro che mi interessa moltissimo, mi interessa anche l'Orlando Laurenziano a te d'età. Mi interessa moltissimo il ragionamento di Alessandro sulla struttura perché nel suo discorso io ho cominciato a intravedere un modo diverso di leggere il Morgante, cioè non un assieme scondiccherato di gente che se ne va di qua e di là senza scopo e senza costrutto, ma un'organizzazione di poema. Allora, gli voglio chiedere se, ovviamente non l'avrà fatto solo il secondo cantare, se questi fili narrativi che vengono lanciati verso lo sviluppo del testo sono fili che poi vanno a parare da qualche parte. Ovviamente io sto studiando la struttura dell'inameramento di Orlando e so, tante volte con Alessandro abbiamo parlato del fatto che esistano dei rapporti forse diversi tra i due grandi poemi quattrocenteschi, un po' diversi dalla Vulgata. Ecco, la mia domanda riguardava questo e ne approfitto per salutarvi tutti. Ciao, chiudo il microfono. Ciao Cristina, grazie. La struttura è, sì, io ce la vedo e non vedo questo in conflitto con il rapporto con l'Orlando. Ci sono dei momenti in cui Pulci inserisce cose sue, si rende autonomo rispetto all'Orlando anche nel Cantare Secondo quando c'è un'invocazione che fa un po' dagli esonti da tutta la la narrativa che sia la narrazione che segue è un'aggiunta di Pulci non c'è nell'Orlando quindi quello che ho tentato di mostrare è che l'invocazione del Cantare Due è di Pulci e così facendo Pulci ha inserito dei dei segni delle allusioni anche molto blande che però forse a noi lettori moderni appaiono veramente minori ma in realtà agli auditori contemporanei risuonavano subito per trovare delle tracce di coordinamento della narrazione nel Cantare questo può espandersi al poema anche perché come dicevo i fili del Cantare Due si ritrovano fino al Cantare Otto e quando arriva Erminione c'è la nuova il nuovo assedio e quando nel Cantare Dieci i paladini ritornano a Parigi ma fino a tutti i primi dieci cantari hanno gli stessi protagonisti Manfredonio Meridiana Olivieri che ruotano intorno a Caradoro c'è una specie di certo c'è nell'Orlando bisogna vedere in che modo però Pulci poi ha quella margine che è quello scarto rispetto alla norma in cui lui inserisce la sua voce e anche riesce un po' a cambiare la narrazione ma la struttura c'è la menzionava anche prima il professor Carrai c'era il c'è il blocco dei primi 23 il secondo Cantare il secondo il secondo Morgante e io penso che Pulci avesse in mente Roncisvalle fin dall'inizio però è una mia ipotesi e quindi la lascio lì però è possibile non mi pare che contrasti con molto magari se avete poi nelle vostre letture magari possa essere smentito non so grazie e complimenti per la sua lettura saluto anche io Cristina Montagnani volevo dire semplicemente sono sono d'accordo con Alessandro Polcri sull'esistenza di una struttura narrativa calibrata dietro al Morgante c'era già nell'Orlando e io ho accennato qualcosa al riguardo nella giornata fiorentina organizzata da Luca degli Innocenti su Pulce la cultura popolare rifacendomi ad alcune considerazioni di Paolo Orvieto e anche di Alberto Roncaccia che ha iniziato a lavorare sulle strutture del Morgante e volentieri ne parlerò nella mia relazione perché bisogna forse discostarsi dalla impressione che il giovane Rain aveva formulato su un poema pulciano privo di una struttura la struttura Cevi sono interessanti relazioni parallelismi nel percorso dei vari personaggi soprattutto Orlando e Rinaldo ma anche altri ed è una struttura che come Alessandro Polcri ha detto merita senz'altro di essere analizzata grazie volevo chiedere una cosa l'inizio diciamo del premio è una citazione appunto dall'inizio del Vangelo di Giovanni allora è vero che possiamo pensare che questo diciamo inizio fosse diventato abbastanza noto anche nella versione in volgare attraverso i predicatori probabilmente ma mi chiedo se esisteva lo chiedo proprio perché non lo so diciamo se esisteva una traduzione in volgare del Vangelo di Giovanni in questo momento visto la lunga diffidenza diciamo per la traduzione in volgare della Sacra Scrittura e comunque è veramente notevole diciamo questo gioco sul verbo sul verbo divino e sul verbo che dà inizio al poema insomma è una cosa che colpisce colpisce molto quindi diciamo la mia domanda è esisteva una traduzione in volgare che si conosceva è ricorrente diciamo quello che chiedo magari a Cristina chiede più familiarità con la tradizione dei cantari esiste qualcosa del genere ok bella come Orlando certo è letterale io penso che conoscesse abbastanza bene anche il testo latino senza bisogno però attraverso i predicatori sarà esistito perché è notevole quindi che ci sia questa citazione in volgare dall'inizio del Vangelo poi di quale Vangelo insomma del Vangelo più e poi con questo gioco sul verbo grazie e con quella zippa però al parer mio improvvisamente appunto che rende evidente l'attenzione assolutamente nessuno cioè che ci sia una trama narrativa eccetera almeno fino al ventitresimo cantare c'è ma voglio dire questa com'è rispetto cioè lui aggiusta una trama esistente o crea una trama perché in un narratore questo non è secondario voglio dire secondo me guardando alle strutture narrative dell'Orlando Pulci aggiusta una trama esistente questo per me è chiarissimo e ne parlerò appunto domani e tuttavia Pulci complica le strutture narrative dell'Orlando raddoppia a volte a volte aggiunge nuovi finali e nuovi significati agli episodi che trovava nell'Orlando proprio rifacendo l'Orlando in ogni modo e in ogni senso e anche dal punto di vista delle modifiche apportate alle strutture narrative agli episodi noi possiamo appunto analizzare l'operazione Pulciana che è sostanzialmente una operazione di innalzamento stilistico formale ma non soltanto c'è una profonda revisione a volte anche delle strutture narrative degli Orlando e degli episodi e dei significati lavecolati ecco questo sì secondo me grazie ecco grazie infinite a tutti e due per le bellissime relazioni io volevo tornare un attimo sul volevo tornare un attimo sull'inizio del cantare secondo perché questa interpretazione di perire al fondo dello scuro abisso mi ha aperto un mondo soprattutto proprio per il legame che hai fatto vedere tu con il vanto di di Morgante e allora io tendo a spingere su possibili interpretazioni perché in un certo senso sembra quasi che il narratore nell'ottava incipitaria alzi e Morgante in una qualche maniera schiacci nel senso che effettivamente l'interpretazione di perire o meglio di chiudesti la porta o mediti la parca abbia poi una una computenza nel vanto iperbolico che è spostato sul piano comico che non deve essere preso in serio e così via però di Morgante che vuole effettivamente andare a liberare tutte le anime infelici non quelle dei giusti ma tutte le anime infelici e quindi come se appunto in questo intento iperbolico ci fosse effettivamente un desiderio di sovvertire completamente anche l'ordine morale dell'assetto e mi chiedevo se in un certo senso in questo gioco molto sottile molto attento di pulci di muoversi sul limite di attribuire ad alcune parti o alcune voci del suo poema alcune parti di sua poetica non si possa anche intravedere una dichiarazione per certi versi di poetica è quel margine piuttosto ampio che lui si ritaglia rispetto all'Orlando facendo cose che all'autore dell'Orlando non sarebbero mai potute venire in mente e a quello che appunto hai sintetizzato tu è esattamente una cosa che soltanto un narratore di razza come pulci avrebbe potuto immaginare collegare l'invocazione a un vanto di un morgan in preda all'esaltazione dopo avere sconfitto un diavolo no? Sì c'è una dichiarazione di poetica credo che riguarda riguarda l'eccesso è un tema aristotelico che serpeggia questo senso del bisogno di medietas di equilibrio continuamente tradito e forse pulci ha questo senso di incapacità di controllare la realtà e salta fuori questo tipo di trasgressione continua in personaggi che in certi momenti fanno delle cose inaudite come pensare di liberare tutto l'inferno una specie di originismo rivisitato un'apocatastasi in chiave comica in cui tutti i liberi non c'è l'inferno è una situazione estrema che porterebbe quasi a un'eresia che però è controllata è controllata grazie al comico che inserito nel modo giusto abbassa l'esplosività del testo e riesce a mandare avanti la narrazione oscillando tra equilibrio e trasgressione che è un po' la cifra poetica del pulci ricerca del bisogno dell'equilibrio anche autobiografica perché la sua vita è stata una continua trasgressione dell'equilibrio e che si riflette anche nella sua scrittura credo qui vado ovviamente così in maniera soggettiva e la vedo così per ora però può darsi anche che magari tu possa vederci alto perché tra l'altro trovo quel verso bellissimo del chiudere le porte lo trovo alta veramente profondamente poetico degno di un di un autore moderno veramente sarebbe una specie di formazione di compromesso perché ho detto a se si è sborlando è vero si liberiamo tutti messo in bocca uno recente convertito che poi resta sempre un gigante rozzo Morgante è una di queste figure appunto borderline c'è Luca che ha non so se abbiamo ancora un minuto stavo rimuginando su una cosa non mi trattengo dal chiederla a Puccini quella al parer mio perché effettivamente se uno dice Pulci in principio era a me viene di finire buio e buiofia invece del verbo appresso a Dio e mi chiedevo se quel al parer mio non possa essere letto come un gioco forse non del tutto scherzoso su una professione di ortodossia in questo caso cioè un pulci cioè un pulci che nei primi anni settanta si è messo nei guai con i sonetti di parodia religiosa scrive il Morgante in un arco di tempo non facilmente precisabile ma poi lo pubblica per com'è alla fine degli anni settanta e sceglie di esordire con una parafrasi del Vangelo molto meno eterodossa ed eretica del suo sonetto e allora aggiunga al parer mio forse bisognerebbe controllare se questo al parer mio non possa essere una precisazione sincera cioè questa è la mia ferma convinzione più che questo è un parere opinabile o forse che pulci non giochi proprio con l'ambiguità di questa sua asserzione che questo è il suo parere però che ci sia un rapporto di allusione a un'altra propria opera che era molto meno che esprimeva un parere molto meno accettabile e chiedevo se mi sembra che si sia capito che secondo me al parer mio non è una zeppa infelice ma è stato visto volutamente perché sul perché indubbiamente c'è da discutere sì l'ipotesi che fai non mi dispiace che però da un punto di vista linguistico al parer mio indica per forza un'opinione non può implicare qualcosa di dire è una verità che io ormai ho appreso perché per dire che si è appreso una verità non si usa al parer mio che rimane mi sembra abbastanza forzato da un punto di vista linguistico perché in genere al parer mio che compare diverse volte sarebbe interessante andare a riprendere tutte le occorrenze e rivederle tutte in genere è un'espressione estremamente soggettiva che in questo caso fa cazzotti oggettivamente con l'altezza del testo da cui si parte certo Pulci veniva da quei sonetti il morgante dovrebbe essere cominciato prima dei sonetti però chissà se queste cose non le ha aggiunte dopo questo è probabile noi possiamo soltanto sapere appunto abbiamo la prima stampa o quella che si suppone sia la prima stampa però io penso che al parer mio sia stato messo volutamente per dare subito una dimensione come dire eterodossa quasi comica come dire guardate che qui si dice la verità ma si esagera anche il discorso che faceva Alessandro ora sul discorso del borderline insomma nel Pulci ci sono tante cose affermate con chiarezza con forza e tante cose al tempo stesso negate e molto trasgressive poi anche la trasgressione è ridotta ripeto come nel cantare ventesimo il fra intende il magnificat che insomma più grosso di al parer mio perché al parer mio in fondo è una notazione marginale come se la sua percorso verso l'obbedienza verso la fede verso essere lì anche agli ordini di di Lucrezia Tornavoni fosse un percorso contrastato e lui volesse darla a vedere insomma però anche queste sono ipotesi del tutto destinate a rimanere tali perché dove le troviamo le prove è difficile trovare delle prove testuali di queste allora riprendiamo i nostri lavori e toccherà ad Alice Ferrari parlarci del non funziona ah ok grazie dicevo siamo arrivati al terzo cantale dopo questa discussione che già ha aperto molti problemi di base e intanto do il benvenuto Alice Ferrari che insegna alla facoltà di lettere e filosofia della università cattolica a Brescia e si è occupata delle edizioni e commenti della commedia fra 4 e 500 e poi del fondo dell'archivio di Franca Brambilla Geno naturalmente molto legata al tema del nostro convegno e i suoi interessi mi sembra di capire soprattutto di tipo lessicografico quindi benvenuta e l'ascoltiamo si sente ok bene vi ringrazio grazie dell'invito grazie della presentazione dopo la consueta invocazione a Dio in apertura il terzo cantare del Morgante riprende il racconto dello scontro sul campo iniziato nel cantare precedente come al solito Pulci per mantenere viva l'attenzione del pubblico crea tensione tra la fine di un cantare e l'inizio di un altro la richiesta che Leonetto il figlio del re Caradoro assediato da Manfredonio porge al conte Orlando di terminare la zuffa con il duello nell'ultima ottava del secondo cantare trova risposta solo nella seconda ottava del cantare successivo quando il paladino afferma che è doveroso che la contesa sia risolta con la spada i due iniziano quindi il duello e il pagano con un'abile mossa riesce a disarcionare Orlando da cavallo che rimpiange in questo punto di non avere con sé il suo vegliantino il paradino si ritrova dunque attaccato da più fronti leggiamo le ottave 5 e 6 la gente fu d'intorno al conte Orlando con lanci e spade con dardi e spuntoni e lui soletto si aiuta col brando a quale il braccio tagliava i faldoni a chi tagliava sbergo a chi potando venia le mani e cascono i monconi a chi cacciava di capo la mosca a ciò che ognun la sua virtù conosca Morgante vide insifatto travaglio il conte Orlando e il lana andava tosto e cominciò a sciorinare il battaglio e fa vedere più lucciole che agosto e Saracindi lui fanno un bersaglio di dardi e lanci ma gettan discosto tanto che quando dove il conte venne un istrice coperto par di penne sono le primissime scene di battaglia campale dell'opera ma il pulci lascia subito intuire come sarà il tenore della narrazione il poema racconta di combattimenti ambientati in luoghi e in tempi lontani ma questi scontri sono rappresentanti sono rappresentati mediante scene tratte dal quotidiano che dovevano risultare decisamente familiari alla platea degli ascoltatori ai versi 5 o 6 dell'ottava 5 affermando a chi potando venia le mani e cascono i monconi l'autore sfrutta l'immagine della potatura dei rami degli alberi per descrivere i colpi inferti da Orlando in battaglia che provano che provocano la caduta degli arti dei suoi rivali nel verso successivo invece un gesto della vita di tutti i giorni come quello di scacciare le mosche è evocato per ritrarre l'atto di dimenare la spada senza tregua a partire dall'ottava 6 assistiamo alla descrizione delle prime prodezze di Morganti in battaglia al verso 3 egli comincia a sciorinare l'iconico battaglio facendo vedere agli avversari più lucciole che agosto il mese notoriamente più ricco dei famosi insetti luminosi le lucciole rappresentano le stelle l'autore vuole quindi lasciare intendere che il nostro gigante fa vedere le stelle in grande quantità e stordisce notevolmente chiunque sia colpito dalla sua singolare arma in queste ottave si coglie anche un'altra caratteristica peculiare dell'opera quella di riprodurre le scene in maniera sempre marcatamente ironica nell'ultimo verso dell'ottava 6 si trova infatti l'immagine dell'istrice ricoperto di aculei per raffigurare Morgante assalito con lancia e frecce da più parti naturalmente Orlando si dimostra il valoroso cavaliere che tutti conosciamo e riesce ben presto a sconfiggere la gloria e l'onor di Levante come verrà definito poco oltre Leonetto udita la notizia della terribile perdita Meridiana l'ambita figlia del re Caradoro si arma di tutto punto e sale a cavallo per sfidare colui che si è macchiato di tale colpa e vendicare così il fratello se l'autor della storia non ciancia aggiunge sarcasticamente il pulci al verso 4 dell'ottava 12 quasi a prendere le distanze dalla responsabilità di una simile affermazione che il nostro autore stia mettendo in dubbio la plausibilità della figura della donna guerriera può essere e non è certo l'unico indizio che ci porta a pensare che il pulci guardi con sprezzante umorismo alcuni caratteri dei cantari cavallereschi come è noto il riferimento a un testo preesistente era un espediente diffuso all'epoca per conferire autorevolezza al testo ma nel caso specifico del Morgante possiamo pensare che questa sia la prima esplicita allusione all'Orlando l'anonimo cantare che secondo la maggior parte degli studiosi funge al pulci da canovaccio per la stesura del suo capolavoro ma torniamo alla vicenda Orlando e Meridiana si affrontano sul campo di battaglia ma quando l'elmo della fanciulla cade lasciando vedere la treccia bionda scena corredata da una sottile parodia dei caratteri della poesia amorosa Orlando si mette a ridere e si rifiuta di proseguire il combattimento affermando lo leggiamo al verso 5 dell'ottava 18 per vagheggiare non venimmo in Levante a questo punto la narrazione si interrompe e assistiamo al primo cambio di scena del poema per la prima volta il narratore abbandona Orlando e si concentra su un altro paladino il famoso Rinaldo ma conviene andare con ordine ritorniamo in Francia a Carlo Mano afferma il pulce al verso 2 dell'ottava 20 quando il messaggero che Rinaldo aveva mandato in cerca di Orlando ritorna alla corte di Francia e riferisce di aver incontrato un corriere che Gano di Maganza aveva a sua volta inviato nelle terre d'Oriente per uccidere Orlando Rinaldo si infuria e si sdegna al punto che nell'ottava 27 si dice e volle con la spada dare a Gano il verso non ci risulta nuovo ma anzi suona piuttosto familiare ci sembra di averlo sentito da poco e infatti è proprio così sono le stesse parole con una minima variazione verbale che l'autore usa il verso 1 dell'ottava 16 del primo cantare per descrivere la furia di Orlando all'inizio del poema quando diceva che il valoroso cavaliere volle con la spada uccider Gano siamo di fronte alla prima di una lunga serie ripetizione narrativa del racconto un paladino che vuole aggredire Gano dopo aver scoperto i suoi intenti traditori viene fermato dagli altri cavalieri e decide quindi sdegnato di abbandonare la corte di Carlo Magno come insegna Karl Marx tutti i personaggi e gli eventi storici si presentano due volte la prima come tragedia la seconda come farsa il discorso di Marx si riferisce naturalmente alla storia ma funziona benissimo anche sul piano letterario oltre ad avere una funzione narrativa perché gli argomenti dei cantari sono abbastanza circoscritti e devono per forza di cose essere riproposte all'interno di uno stesso testo la ripetizione stereotipata delle situazioni ha una precisa funzione comica e il Pulci lo sa bene tant'è che egli non intende affatto di simulare la ripetizione ma sembra piuttosto che voglia evidenziarla adoperando proprio gli stessi vocaboli usati in precedenza il fatto che l'autore non si preoccupi delle ripetizioni del suo racconto ma che anzi le accentui e le enfatizzi potrebbe essere interpretato anche come una sorta di critica alle chansons de gest che da anni si ripetono e si ripresentano sempre uguali a loro stesse l'occhio ironico del Pulci non poteva certo conformarsi alla tradizione senza portare novità egli decide quindi di adeguarsi al genere dell'opera che sta elaborando rinnovandolo però dal suo interno portando agli estremi alcuni atteggiamenti e variandone altri una caratteristica del Morgante è quella di rappresentare i paladini cristiani non solo inclini all'affrontare valorose battaglie ma anche sempre pronti ad abbuffarsi ed è proprio così che l'autore introduce in questo cantare la figura di Rinaldo il cavaliere abbandonata la corte di Carlo Magno insieme a Olivieri e Dodone arriva e non è certo un caso alla stessa badia in cui era incappato Orlando ad aprirgli la porta però non trova i monaci che aveva incontrato il cugino nel primo cantare del poema ma il gigante Brunoro che arrivato all'abbazia per vendicare i suoi fratelli Passamonte e Alabastro uccisi da Orlando aveva imprigionato l'abate e tutti i monaci Rinaldo che si presenta come un saraceno dicendo come leggiamo i versi 1 e 2 dell'ottava 40 da mangiare e bere accetto viene definito al verso 5 dell'ottava 41 da Brunoro un ciuffa al mosto il vocabolo che significa buono a nulla con riferimento a una predilezione per il vino è un'invenzione pulciana risulta attestato solo nel Morgante ma come suggerisce Franca Brambilla Geno nel commento al poema può essere messo in relazione con l'espressione del ciriffo calvaneo che non usi a zuffarsi col mosto e con quella del pataffio che peraltro risulta tra le lezioni scartate dal nuovo editore buonfante fu ma ciuffava del mosto Brunoro fa preparare per i cavalieri un banchetto degno della sua stirpe di gigante leggiamo l'ottava 42 truova cosa che facci in collezione severe liqui arcame o catriosso rimaso o piedi o capi di cappone e da pur broda e macco al uonche grosso vedrai come gli scuffia quel ghiottone che debbe come il can rodere ogni osso assettagli a mangiare in qualche luogo e lascia i porci poi pescarne il truogo Brunoro dispone dunque che si offrano gli avanzi che siano carogne carcaste di animali oppure parti poco pregiate del cappone come i piedi e la testa riprendendo il proverbio popolare toscano all'uomo grosso dagli del macco che significa a uomini grossolani conviendare roba grossolana ordina di servire oltre a un po' di brodaglia anche il macco una vivanda di fave cotte nell'acqua e ridotte in pasta la proposta culinaria non è delle più invitanti ma il gigante è certo che quel ghiottone di Rinaldo apprezzerà tanto da arrivare come si legge al verso 5 tanto da arrivare a scuffiare verbo particolarmente espressivo già impiegato per descrivere la buffata del primo cantare che significa emettere rumorosamente aria dalle narici mentre si mangia con foga il gigante ha capito che i cavalieri non si porranno problemi nel divorare ogni cosa e conclude il suo discorso con due paragoni tratti dal regno animale Rinaldo dovrà rodere ogni osso come fanno i cani quando finiscono gli avanzi e gli avventori potranno mangiare direttamente dai recipienti che contengono i cibi proprio come fanno i porci è noto che i paladini non abbandonano mai i loro compagni e anche in questa impresa gastronomica Rinaldo non è solo nell'ottava 44 leggiamo infatti Rinaldo cominciava a piluccare e trassesi di testa all'orlermetto ma Olivier non se il volle cavare così Dodon che stavano con sospetto perché Brunoro veggendogli imbeccare per la visiera guardava di letto nell'orlermetto nell'ottava si coglie un altro aspetto caratteristico del testo punciano la grande abilità nel rappresentare in maniera sempre varia l'atto del mangiare Rinaldo pilucca quindi mangia piccoli pezzetti mentre Oliviere Dodone non volendo togliersi l'elmetto per paura di essere presi d'assalto dai saraceni introducono il cibo attraverso l'apertura della visiera quindi imbeccano come se fossero degli uccellini nel nido che si fanno nutrire a becco spalancato suscitando l'ilarità del gigante Brunoro e di tutto il pubblico i paladini si abbuffano sì ma mantengono alta la guardia perché si percepisce una certa tensione nell'aria la situazione degenera quando uno dei pagani si avvicina a Rinaldo con fare sospetto nell'ottava 49 Rinaldo l'ebbe era alla fine in dispetto però che diluviava a maraviglia e cadegli la broda giù per il petto guardò più volte e torceva le ciglia poi disse saracin per macometto che tu sei porco o bestia che il somiglia io ti prometto se tu non te ne vai farò tal gioco che tu piangerai Rinaldo importunato da un saraceno mentre era intento a diluviare dunque trangugiare velocemente il cibo tanto da rovesciarsi la brodaglia sul petto come si legge nel verso 3 si addira al punto che nell'ottava 51 che gli appiccò in sul capo una sorba che come i fussi una noce lo schiaccia non bisogno che con manvi si porba e morto nel paio quasi lo caccia tanto che tutta la broda si intorba il valoroso cavaliere non accetta di essere disturbato mentre intenta a mangiare quindi mena un colpo sulla testa al pagano e lo schiaccia frantumandolo come fosse una noce dare le frutte o dare le sorbe così come le pesche e le nespole per dare le botte sono espressioni derivanti dal patrimonio fraseologico fiorentino molto diffuse nel poema sappiamo che il pulce ama mettere in risalto le espressioni popolari in questo caso sembra addirittura che l'autore voglia non solo riprendere l'immagine vernacolare del verso 1 a piccare sul capo una sorba ma addirittura amplificarla attraverso il paragone con la noce frantumata del verso seguente inizia così la zuffa ma interviene immediatamente Brunoro che da buon padrone di casa vuole sapere per quale motivo si è scatenata nelle ottave 54 e 55 disse Rinaldo come San Costoro non vuoi mai noia quando io sono ad Esco e sto come il cavall sempre in Cagnesco venne a mangiare qua uno io lo pregai che se ne andassi e non curò il mio dire mangiato poi non parea che avessi mai ed ogni cosa faceva sparire le frutte dopo al mangiargli donai perché il convito s'avessi a fornire Rinaldo spiega dunque che il combattimento ha preso avvio perché gli è stato dato fastidio mentre era intento a mangiare non certo per nobili questioni aggiungeremmo noi correntemente con il verso 1 dell'ottava 51 per raccontare di aver appiccato a Saraceno insolente una sorba quindi una percossa Rinaldo al verso 5 dell'ottava 55 afferma di avergli dato le frutte intese come botte dopo aver mangiato l'autore usa quindi un'altra immagine alquanto evocativa che ci induce a una riflessione le frutte dopo al mangiar gli donai può essere un verso preso alla lettera perché la frutta si serve a fine pasto e abbiamo già avuto modo di sottolineare come le frutte nel poema indichino spesso e volentieri le percosse come in questo caso ma proprio l'indicazione temporale dopo al mangiar fa pensare che l'autore abbia in qualche modo voluto alludere anche alla vicenda di frate Alberigo del 33esimo canto dell'Inferno sappiamo che Pulci conosce bene l'opera dantesca e possiamo affermare con certezza che egli avesse ben presente il passo perché al verso 2 dell'ottava 72 del venticinquesimo cantare parla esplicitamente come si legge alla pagina 3 dell'end out delle frutte amare di frate Alberigo visto l'esito funesto del particolare dono di Rinaldo e visto il momento in cui la consegna della frutta è collocata si potrebbe quindi pensare che l'autore abbia voluto alludere all'uccisione a tradimento dei parenti messa in atto da frate Alberigo alla fine di una cena che avvenne proprio dopo il segnale di servire la frutta Bruno Oro che si comporta davvero in maniera insolita per essere un gigante ma in questo testo siamo abituati a comportamenti inconsueti si scusa con Rinaldo e chiede di porre fine alla zuffa e dedicarsi piuttosto a risolvere la disputa tra lui e la base siccome Rinaldo si era presentato come un combattente per la ragione il gigante vuole sapere se secondo lui la sua occupazione dell'abbazia è legittima e gli espone la sua versione dei fatti dopo aver attentamente ascoltato le argomentazioni di Bruno Oro il paladino afferma nell'ottave 59 e 60 di voler sentire anche le ragioni dell'abate prima di potersi esprimere in merito alla questione disse Rinaldo falso è il tuo contendere io ti dirò quel che io ne intendo aperto con un sol bue io non so un buon bifolco ma se io ne ho due andrà diritto il solco se due campane l'una odi suonare l'altra no chi può giudicare questo qualsiasi migliore io odo il tuo parlare vorrei da quello abate udire il resto non si può risolvere una disputa se non si ascoltano tutti e due i contendenti e Rinaldo trova ben due proverbi popolari per esprimere il concetto non è possibile arrare bene con un solo bue che trae in allaratro così come non si può giudicare quale campana suoni meglio tra due senza sentirle entrambe Bruno Oro si lascia dunque convincere e porta l'abate davanti al cavaliere perché sponda perché sponga anche egli la sua versione dei fatti Rinaldo una volta sentito anche il punto di vista del secondo contendente forte della saggezza popolare esprime nell'ottava 65 il suo giudizio riprendendo i proverbi delle ottave appena lette or ti parrà che il solco va diritto or due campane si possono dire tu mi parlavi simulato e fitto però se a questo non sai contraddire la mia sentenza è data già in iscritto se vero è quel che l'abate ma porto egli ha ragione e tu pagano hai il torto a questo punto la tensione scoppia e lo scontro può finalmente consumarsi Rinaldo e Brunoro decidono di sfidarsi in un duello che vede subito perire il feroce gigante e inizia così una battaglia che coinvolge anche i monaci e provoca una strage di Saraceni leggiamo le ottave 71 73 74 Rinaldo non avea rotta la lancia e il primo che gli scontra dei pagani gli passò la corazza e poi la pancia poi Confusberta sgranchiava le mani ed Olivier che è pur di quei di Francia questa racina affetta come pani e sopra Vegliantino era salito e del 18 teneva ogni invito i frati ognun la cappa si cavava chi piglia sassi e chi stanga e chi matta ognuno addosso a costor si cacciava molti uccidean di quella turba pazza Rinaldo tanti quel dì affettava che in ogni luogo per sangue si guatta a chi balzava il capo e chi il cervello come si fa delle bestie al macello ed Olivier che aveva Durlindana tu devi pensare quel che faceva di loro e fece in terra di sangue una chiana Dodon parea più bravo che un toro misse si infuga la gente pagana che non potean più reggere al martoro anche in questo caso il nostro autore rappresenta in maniera decisamente vivida la battaglia e tutti e tre i cavalieri cristiani si distinguono per le loro prodezze Rinaldo che non aveva rotta la lancia trapassa la corazza e poi la pancia di ogni pagano che incontra l'operato di Olivieri è descritto con la raffigurazione di una scena domestica come quella di affettare il pane questa racina affetta come pani e con un'immagine tratta dal campo semantico del gioco dei dadi del 18 teneva ogni invito che significa accettare anche le sfide più difficili come quella di trovare la combinazione del 18 che è il punto più alto che si possa fare con tre dadi Dodone libera presto l'abate e sia quest'ultimo sia gli altri frati che anche loro si comportano in maniera piuttosto insolita per essere dei religiosi prendono parte attiva alla zuffa i particolari più cruenti non sono certo risparmiati Rinaldo colpisce talmente tanti saraceni quel giorno che ovunque sprizza sangue a chi balzava il capo a chi il cervello come si fa delle bestie al macello Olivieri che aveva Durlindana la spada di Orlando sottrattagli per salvare Gano su quale si era avventato nel primo cantare stermina così tanti pagani da provocare una palude di sangue chiamata Chiana voce toscana che indica appunto la palude Dodone sembra più feroce di un toro e fa altrettanta strage di fronte a tanto valore i saraceni non possono far altro che fuggire perché non reggono oltre questo martirio la battaglia è come al solito raffigurata mediante immagini sempre diverse tra loro ma quanto mai espressive e familiari al pubblico espressamente chiamato in causa al verso 2 dell'ottava 74 con l'espressione tu dei pensare che ritroveremo molte altre volte nel poema a questo punto il cantare sta volgendo al termine e proprio come è iniziato finisce una battaglia descritta con immagini tratte dal quotidiano è infatti seguita da una situazione narrativa che si ripete identica al cantare precedente il terzo il terzo cantare del morgante si conclude con la commovente scena di rinaldo che proprio come era successo a orlando all'inizio del secondo cantare scopre di essere cugino dell'abate la ripetizione della situazione che sortisce ovviamente esito comico permette dunque di chiudere il cerchio narrativo del cantare e offrire come di consueto un ringraziamento a dio in conclusione grazie a Alice Ferrari per questa attenta lettura del terzo cantare tra l'altro ci sono alcuni temi che penso poi riprenderemo come ad esempio ricorrere le immagini legate al gioco agli scacchi al gioco delle carte che è un aspetto secondo me molto interessante e poi naturalmente il grandissimo tema del cibo e appunto qui abbiamo una variante per cui c'è il cavaliere cristiano che è attento al galateo quindi molte grazie grazie diamo la parola a Jane Tylus per l'ultima relazione di oggi non piacere di avere con noi Jane che ha insegnato alla scuola venuta a due volte ai nostri seminari Jane Tylus ha insegnato prima all'unità del Wisconsin poi a lungo a New York University adesso a Yale dove sta rimettendo in piedi gli studi dell'italianistica ha scritto su molti molti argomenti insomma la sua è una ricchissima produzione anche molto varia ha lavorato sulla pastorale ha lavorato sull'epica sulle poetesse sui rapporti tra letteratura e religione ricordo un bellissimo libro su Santa Caterina da Siena che ora viene anche tradotto in italiano che è stato premiato ci è dedicato molto anche alla traduzione traduzione ad esempio di Lucrezia Tornavuoni di Gasparastampa e così ha molti interessi anche dal punto di vista teorico proprio per questo tema la traduzione come un modo di dare ospitalità al testo altrui ricordo su partecipazione a un convegno qui proprio su questo tema dell'ospitalità ora sta lavorando su un tema veramente affascinante come il Dio sia Dio nel rinascimento quindi aspettiamo di leggere questo testo dal 2013 è stata General Editor per i Tatti Studies quindi benvenuta e ti ascoltiamo a leggere il quarto cantare grazie grazie Luca grazie dell'ospitalità e vi confesso all'inizio qui con un po' di vergogna che fino a qualche mese fa prima che mi arrivasse l'invito di Luca a partecipare a questo convegno non avevo letto molto di questa opera per dire la verità per cui la mia lettura sarà molto impressionistica io sono qui più per imparare e da voi per insegnarvi qualcosa cerco anche la vostra pazienza devo dire però che la scelta dal quarto cantare a parte di Luca è stato anche un copo di fortuna casuale ovviamente all'inizio del canto infatti si trova una delle poche illusioni nel Morgante ad un libro che invece conosco piuttosto bene grazie alla donna che viene invocata nel primo cantare del Morgante e poi di nuovo alla fine e sto parlando certamente ovviamente di Lucrezia Torno Boni nell'ultimo cantare leggiamo non solo della sua morte recente ma anche della sua poesia più precisamente dei libri messi in versi dalla Bibbia una vita di Maria nel libro di Esdram oggi sconosciuti e scomparsi mentre la vita di Giuditta e quella di Giovanni Battista santo patrone di Firenze si trovano all'interno di due manoscritti conservati oggi a Firenze e poi ecco il legame con il nostro cantare un quinto progetto la vita di Tobia un uomo caritatevole che dopo la sua caduta nella povertà e cecità chiede al suo figlio Tobiuzzo di cercare un suo parente a cui aveva prestato soldi anni prima e un libro apocrifo che Tornobuoni aveva riallaborato forse tradotto in terzine con grande fedeltà anche se ne aveva aggiunto alcuni brani notevoli infatti una delle sue aggiunte principali è l'invocazione stiamo parlando molto oggi delle invocazioni che sono sicuramente importantissime attraverso cui cercò di stabilire un parallelo fra se stessa e il ragazzo Tobia quando prega Dio di mandarle in guardia e compagnia Raffaele che mandasti accompagnare l'unico figlio all'incognita via tutto per permettere che la Tornobuoni e cito metti in versi la storietta di Tobia e piaccia a tutta gente troppo giovane per andare da solo in paesi ignoti Tobiuzzo troverà per caso un ragazzo in piazza che si offre di farli da guida fino a media un angelo travestito da adolescente anche se nella maggioranza dei quadri contemporanei come quello che vediamo qui da Verrocchio il grande maestro di Leonardo è sempre rappresentato quasi con le ali cioè non è proprio travestito ma torniamo al nostro cantare il filo rosso che collega questa narrazione all'inizio del quarto cantare dopo la rivelazione del vincolo di Parentalan che abbiamo appena sentito che lega Rinaldo all'abate Chiaramonte Rinaldo insiste che lui Olivieri e Dodone dovessero partire subito per cercare l'amico e cugino Orlando e l'abate riluttante chiede la grazia di Dio per affrontare il viaggio la frase che da lui è breve ma significativa grazie alla presenza della parola che si trova anche nella frase di Torno Buone accompagnare o per citare l'abate se di vedere Orlando i tuoi pensieri vattene in pace caro mio fratello Dio tu accompagni per ogni sentiero e come fece Tobia Raffaello a cui Rinaldo risponde così prego e spero e parte cavalcando per piano e per monte per la gran voglia di vedere Orlando accompagnare significa naturalmente andare con un compagno oggi cercherò di stabilire un argomento la cui base si trova nella serie di compagni a cui siamo introdotti nel corso di quarto cantare da leone salvativo fino alla bella ragazza fuorisena ma vorrei riflettere anche sull'idea stessa della compagnia se la vera spinta per la narrazione iniziale del morgante è la partenza di Orlando dalla corte si può dire che la spinta dietro la partenza di Rinaldo due cantari dopo è la paura che Orlando si trovi da solo in più nello stesso modo in cui Tornoboni chiede l'aiuto di Dio nello forum di un angelo anche Pulci chiede di essere accompagnato nella prima ottava del poema che abbiamo anche già visto per oggi eccoci vediamo un'altra invocazione proprio all'inizio però giusto signore Benigno e Pio mandami solo un degli angeli tuoi che mi accompagna e richimi a memoria una famosa antica ed è in storia così mandami un Raffaello affinché posso riportarmi recarmi la storia di Carlo Magno alla memoria e poi all'inizio del quarto cantare sempre nella prima ottava c'è un ritorno alla preghiera del primo cantare ci abbiamo questa volta laudamos che il signor con umile canto poi che per tua benignità ti piace la batte nostro qui consolare tanto e le mie rime accompagnare per tutto tanto che il fior produca al fin buon frutto per tutto commenta Franca Geno vuol dire continuamente così abbiamo un'indicazione che gli ultimi tre cantari già godono della presenza del signor e hanno già prodotto buon frutto come Tobiuzzo come Tobiuzzo piccolo Tobia pieno di ansia per la strada sconosciuta anche il narratore non voleva trovarsi da solo ma cosa significa stare da soli nel mondo cavaleresco del tardo medioevo e nella poesia stessa per gli autori francesi come cretien de Troyes si trattava soprattutto di una questione di ceto sociale dello status dell'individuo quando all'inizio del romanzo Ivan o lo chevalier o lion il cavaliere Cala Grenon parla della sua partenza dalla corte sette anni prima giovane e naif giovane e naif si paragona a un vilano se io come presence solo come un vilano anche se possiede le armi di un cavaliere solo i vilani vivono viaggiano lavorano da soli come fossero quasi degli animali al margine della civiltà quando tocca ad Ivan di partire dalla corte anche lui cerca di farlo senza essere visto da nessuno si tratta di una certa inquietudine di una resistenza alle regole ma una resistenza che lo porta solo alla sfortuna alla pazia ad una solitudine non solo fisica ma esistenziale per tornare al morgante non è casuale che Orlando appena partito furioso dalla corte di Carlo va cavalcando in un deserto dove trova una badia in luoghi scuri e paesi lontani che era a confine tra cristiani e pagani la badia stessa si trova in un posto liminale fra il mondo cristiano e quello musulmano mentre il deserto vuole suggerire un altro tipo di liminalità a confini fra civiltà e selvaticezza scusatemi e da notare che in Orlando Lorenziano il poema ovviamente che forse Pulci utilizzò come fonte per il morgante il guerriero viene confuso dai monaci del monastero per uno dei giganti che vanno cavalcando nel deserto da soli cioè vediamo qua i monaci gettano alcun sasso a piedi e poi chiedono sareste tu di quelli giganti che avete guasto la nostra badia stare da soli o soletto la parola che si vede qui vuol dire essere una bestia al massimo mezzo umano come un gigante o un vilano per l'appunto in Pulci i monaci seppur speventati non attaccano Orlando e neppure lo confondono per un gigante però va considerato il fatto che dopo solo 42 ottave Morgante dirà ad Orlando o gentil cavaliere per lo tuo iddio non mi dir vilania forse perché si trova davanti un vilano solitario e così Orlando non avrà più l'occasione o bisogno di viaggiare senza un compagno finché non morirà Morgante l'inquietudine dell'eroe sembra essere diventata l'inquietudine dell'autore rispetto al suo protagonista e magari alla sua vilania e questa inquietudine si riscontra anche all'inizio del Cantare 4 dove siamo di nuovo alla stessa badia del primo cantare fra civiltà un paese salvaggio un mondo in cui Rinaldo combatte un drago da solo senza i suoi compagni Olivieri o Dodone che per la paura dei cavali si sono riterati subito dopo aver visto il drago che stava uccidendo un leone Rinaldo invece cercherà di dare un aiuto al povero leone e avrà un altro tipo di compagno ad assisterlo una voce che si manifesta dopo una sua preghiera e gli dice non temer barondotto del gran serpente rigido e feroce tosto sarà per tua mano al di sotto mentre sta per assalire il nemico sembra che il leone stesso gli parli e alla fine il dragone appena morto il leone cominciava a leccare il destriere parea che rendere gli volessi grazia di far festa a Rinaldo non si sazia e dopo che Rinaldo prega Maria che mi dimostra ecco il brano Vergine Graziosa Vergine Graziosa che mi dimostri ondella via Sipiglia per questo selvo così per Rosa o tu mi fa fare scorta al leone pareva che questo leone intendessi e cominciava in ansia a camminare come se dritto mi verrai dicessi Rinaldo si lasciava lui guidare poi quel leone che appunto sai sentieri ritrovò Dodone ed Ulivieri come si dice in inglese mission accomplished almeno per qualche minuto poco dopo Rinaldo dichiara di essere affamato e si steremo a cena con o meglio senza un gigante che stava rustando un cervo ma arrivano anche qui alla cena grazie all'esistenza del leone che in ansia ho soletto sempre mostrando costruito il cammino porta tutti ad una grotta dove abitava un gigante ed un gran fuoco si aveva fatto avanti cioè Rinaldo non è quasi mai senza nessuno e il leone che non sa parlare diviene la guida per il resto del cantare e per quasi cinque cantari in più guida i nostri eroi prima al gigante affinché possano mangiare e poi alla città di Carrara dove tutti i tre saranno coinvolti in una battaglia contro un altro drago la cui presenza nelle terre fuori dalla città di Carrara ha convertito quello che in un tempo era un bel giardino in una spelonca o deserto il drago ucciso i pagani della città saranno tutti barezzati molto differente dalla strage che noi vediamo alla fine del terzo cantare cioè c'è un movimento nel cantare della baddia a confine dei cristiani pagani alla città pagana non più pagana alla fine e un altro movimento dall'incontro solitario di Rinaldo con il primo drago reso meno solitario dalla presenza della leone della voce ai combattimenti di gruppi in cui tutti e tre i guerrieri giocano un ruolo principale nella morte del demone sia gigante che il secondo dragone anche se simile all'avventura di Orlando dopo la sua partenza da Carlo Magno quello di Rinaldo gioca brevemente con uno stato d'essere che sembra quasi proibito nel poema la solitudine certamente Pulci può avere condiviso con Cartien lo snobismo verso i vilani e chi viaggiava senza servi o scudieri e va detto che nel poema di Cartien de Troyes già citato Ivan abbiamo la stessa battaglia fra cavaliere e drago in cui ce ne è coinvolto anche un leone che alla fine si dedicherà al suo salvatore cioè Ivan allo stesso tempo c'è sicuramente qualcosa in più sembra esistere nel mondo di Pulci non solo il terrore del vuoto che si trova a livello della lingua stessa ma un poema che utilizzando una frase di Maria Cristina Cavani continua a resistere ad ogni definizione univoca o citando Alessandro Polcri un poema aperto in fuga direi della solitudine proprio come i suoi eroi come fosse la facciata di un cattedrale gottica si vede continuamente nelle pagine del morgante la volontà di riempire tutto lo spazio disponibile senza nessuna preoccupazione per un equilibrio abbiamo già anche parlato della parola l'equilibrio fra pieni e vuoti retaggio ovviamente dal classicismo greco a cui il rinascimento guardava se il narrativo pulciano cerca continuamente di inserire nello spazio bianco della pagina una parata senza fine di personaggi cose animali piante e parole cerca anche di proibire che i suoi eroi si ritrovino in un viaggio solitario come per evitare l'esperienza di un terrore quasi meno fisico è così che ci troviamo di fronte a uno stile sempre in cerca di qualcosa o qualcuno in più con il ritmo incessante e implacabile dell'edizione cioè anche le voci di altri poeti conosciuti e sconosciuti non solo l'attore dell'Orlando oppure di Rinaldo ma anche Dante con le sue selve oscure o Petrarca un esempio solo del nostro cantare cito l'ottava 89 che mi consigli questo è sicuramente un ecco del canziniere 268 che debbo io fare che mi consigli amore la prima canzone scritta dopo la morte di Laura la domanda è quella di Olivieri ferito prima del drago e ora dall'amore per la bella forisena che ovviamente adora questo cristiano che rischiata la sua vita per lei ma anche sepulci alcoli e Petrarca nel morgante lo fa per criticarlo precisamente a causa della sua sempre rinforzata solitudine mentre Petrarca ha solo se stesso con cui lamentare la morte dell'amata a parte la canzone stessa una vedova mandata al mondo Olivieri ha la compagnia di Rinaldo che dà una risposta senza esitazione allora se mi crederai di questo loco ti dipartirai lascia la dama non fu di vagheggiare nostra intenzione ma di trovare il signore dei quartieri una risposta ripetuta subito dopo dall'altro compagno Dodone tanto si cerchi per tutti i sentieri che noi troviamo il figlio di Milone come dire in effetti bisogna convincere a convincere Petrarca che la sua tragedia d'amore non dovesse finire in paralisi in vagheggiare se non fosse stato così isolato dagli altri esseri umani se avessi avuto più compagni durante la sua vita solitaria la sua poesia avrebbe avuto ben altro significato l'angoscia di Olivieri non finirà con la sua partenza ma almeno si trova in compagnia e poco dopo con la compagnia di altre donne ma il fatto importante è che Pulci prova a creare una comunità di voci ben riconoscibili ai suoi lettori un progetto centrale anche per Poliziano con la sua tessitura quasi mosaica che costituisce le sue opere in volgare in particolare le stanzi per la giostra o per citare Mario Fubini parlando delle tendenze del Pulci di moltiplicare in Poliziano c'è una simile procedura per versi accostati l'uno all'altro un accostamento una combinazione in cui niente o nessuno rimane isolato ma si trova sempre in rapporto a qualcosa o qualcuno in più ecco perché Morganti arriva nella prima metà del primo cantare per accompagnare Orlando ecco perché Rinaldo si sente incarcato di cercare Orlando e ecco perché abbiamo la storia di Forisena anche se non vorrei anticipare troppo il quinto cantare cioè la nostra discussione di domani la donna come già saprete si uccide per l'amore dopo essere stata abbandonata da Olivieri nelle parole di Eduardo Leibano si presenta come una donna decisa e pronta ad agire quando la situazione lo richieda sia per confessare ad Olivieri il suo amore sia per uccidersi la sua breve esperienza nella compagnia amorosa del cavaliere francese l'avrebbe abituata all'idea di una vita passata assieme a qualcun altro per cui la solitudine dopo la sua partenza lei diviene insopportabile questa storia ci porta alle dimensioni più tragiche della solitudine che vedremo anche nell'orando furioso nonostante i riferimenti parodici nel poema di Ariosto che sono lì proprio per accentuare il livello umano di questo protagonista un po' sovrumano in tutti e due i casi si tratta della mancanza dell'amato cioè Olivieri o dell'amata cioè Angelica così l'assenza dell'affetto conosciuta nel caso nel Morgante non solo da Forisena ma anche da Olivieri ignorante della morte della donna ricordo sia l'ora di Forisena che del suo cuore tenera le chiavi ancora ma non sapeva o me della sua pena ma con questo discorso sull'amore ci siamo spostati dal ruolo della guida a quello del campagno dall'angelo all'amico e all'amante per cui pongo la domanda qual è la differenza fra una scorta e un campagno una guida una scorta può diventare un campagno fra Virgilio e Dante c'è più amicizia alla fine del Porgatorio che Gerarchia in ogni caso appena arrivato un Porgatorio Virgilio non più può servare come guida e dopo il trentesimo canto sparisce improvvisamente tanto che Dante neanche se ne accorge anche nel libro di Tobia per tornare adesso a Tornobuone c'è una partenza quasi spaventosa dall'angelo o nelle parole di Tornobuone più o meno fedele al latino e allora dopo che Raffaello prega che i suoi cari amici in pace rimanete da loro occhi sparì come baleno non vedono più in palesi o in segrete forse qui c'è la differenza fra compagno e guida la guida sta con l'eroe finché non ne ha più bisogno poi sparisce improvvisamente senza neanche congedarsi Virgilio ritorna all'inferno l'angelo parte per i cieli avendo portato il suo compagno in un posto sicuro Rossella Bessi ha paragonato la sparizione improvvista da Lione nel nono cantare nella Morgante alla sparizione di Raffaello Rinaldo Dodoni Olivieri Orlando e Morgante entrano in un deserto e subitamente quel lion silvano da loro fu disparito provocando questo commento ah scusatemi non ho messo ah sì eccolo provocando questo commento di Rinaldo e caro cugino mio vedi il lion come da noi sparito questo miracolo ci dimostra il Dio Orlando ha sempre avuto i suoi dubbi su Lione e risollevato dalla sua scomparsa tanto che afferma molte volte mi ha fatto paura ma forse il punto è questo che ormai i viaggiatori si trovano con i loro veri campagni Stazio Beatrice la famiglia di Tubia i cugini Rinaldo Orlando assieme a Dodoni Olivieri e Morganti sono liberi di andare avanti e anche di festeggiare c'è infatti c'è infatti una festa alla fine del quarto cantare sia per la morte del drago sia per il battesimo di tutto il popolo della città di Carrara questo ci porta alla memoria altre feste come quelle dopo i miracoli di San Giorgio per esempio oppure di San Silvestro ma cos'è un vero compagno? dal punto di vista filologico la risposta è semplice uno con cui si mangia pane in questo contesto è molto interessante pensare che la parola campagno non fu nota al mondo taro del latino e quindi allo stesso San Girolamo del quarto secolo quando traduce il libro di Tubia questa parola si riscontra infatti solo a partire dal settimo secolo dopo Cristo poi la parola francese accompagné senza nessun equivalente latino per quanto io lo sappia emerge per la prima volta nella seconda metà del dodicesimo secolo infatti la troviamo per prima nelle opere di Cartien de Troyes il nostro autore del romanzo Ivan per tornare proprio a lui in cui si trovano la frase è messia Ivan chi ammanto se qui a lui si accompagna due secoli dopo Lucrezia Tornoboni introduce l'angelo Raffaello che si presenta a Tudio nella piazza con la frase un buon compagno che sia fedele la sua traduzione della frase latina fidelum virum ma un angelo come noi lo sappiamo non mangia e non beve dopo che lui divulga la sua vera identità a Tobia Raffaello parla del piccolo inganno ma non mangiavo e non vi accorgevate fingeva di essere un uomo ma non lo era e nessuno se ne era accorto allo stesso modo neanche il leone dell'Orlando Lorenziano mangia o beve come dice Rinaldo non chiede da bere né da mangiare anche se Putin non ripeta questa frase dall'Orlando anche il suo leone non partecipa né alla cena nel cervo né alla festa dopo la morte del dragone questo gioco di parole compagno che non è vero compagno che non può essere vero compagno ovviamente era possibile se erano i tempi medievali per cui è un gioco di cui i nostri autori erano sicuramente consapevoli tutto questo per dire che dal punto di vista filologico l'emergenza del compagno la scomparsa o l'assenza della guida vuol portare l'attenzione ad una comunità più che altro umana vuol dire che tutti rimangono sia alla fine del libro di Tobia che alla fine del quarto cantare per festeggiare in buona compagnia di una nuova e più estesa famiglia in cui manca solo una persona che non è una vera e propria persona cioè l'angelo e il leone vuol dire che la bontà goduta fra tanti nuovi amici familiari e non solo grazie a Dio ma la carità dimostrata da Tobia padre e alla fine suo figlio e all'atto generoso dei cavalieri anche se fu spinto soprattutto dall'amore per la bella fuorisena o per renderlo più chiaro il desiderio di mangiarla cito espressioni un po' shocking per la sensibilità moderna e allora come quando Rinaldo dice Olivier noi saremo due impronti a un taliere oppure quando dice a se stesso questa non è carne da darla divorare la ferrocrudelle ma qualche amante gentile e fedele oppure quando qualche ottava dopo Olivier nella mente borbotta non mangerà si bianco pan per certo questo animale che è lì pasto di amanti se noi dovessimo morire tutti quanti tutti questi riferimenti alla carne e alla donna pronte per essere mangiata fanno impressione non solo perché fanno parte di questo discorso del compagno anche se in tutt'altro modo di quanto stiamo discutendo ma alla fine del contare si arriva ad una nuova interpretazione della prontezza con la quale i nostri tre cavalieri si sono messi al lavoro del drago quando Rinaldo diceva che lui andava alla caccia per natura e per amore della tua figlia bella dopo aver ucciso il drago Rinaldo decide di tornare come l'abbiamo visto al compito originale cioè cercare Orlando o per seguire più oltre la nostra trama così per il mondo ci andiamo tappinando perché di corti Orlando si è partito nel ritrovare possiamo dove sia Gito andiamo dietro alle sue pedate continua Rinaldo il filo narrativo tagliato dovrebbe essere ristorato ed a questo punto diviene chiaro che non era tutto un gioco d'amore o di fame e quindi una deviazione dal vero obiettivo di fare rientrare Orlando in una comunità umana anzi ci troviamo nel mezzo di un nuovo lettore dell'avventura principale del quarto cantare da Burlone Rinaldo diventa predicatore lascia a Polino e gli altri vani idee e torna al nostro padre benedetto ma lo fa in un modo che inserisce il loro arrivo a Carrara l'uccisione del drago e il salvataggio della figlia in una nuova narrazione in cui tutto è stato scritto e voluto da Dio stesso vedi che a tempo qua forno mandati che la tua figlia ha voluto salvare dunque ritorna alla sua santa fede di quello e Dio che ebbe di te mercede non dovrebbe sorprendere che Corbante dà subito una risposta affermativa confermando la spiegazione della causa per cui i cavaliere si sono trovati a Carrara negli ultimi giorni le sue parole finali così il nostro eterno salvatore per molti vi illumina la mente sono un ritorno al preghiera che abbiamo già visto oggi della seconda ottava e del poema La Vergine Maria con dolce rime stil grato e suave aiuta i versi miei benignamente e insinua al fine illumina la mente illumina la mente portaci luce affinché possiamo vedere durante i nostri viaggi ma non sembra essere una semplice allusione alle dolce rime allo stile grato e suave si tratta di qualcosa più o reale che appartiene ad un paesaggio quasi sonoro musicale e un altro tipo di accompagnamento non proprio fisico non un viaggio con uno che mangia pane ma uno che crea quasi un quadro un contesto non sempre percepibile a cui i veri viaggiatori Rinaldo Orlando Poci stesso possono ogni tanto guardare o sentire volgendosi verso l'altro oppure indietro intuire una struttura che va ben oltre loro stessi l'impermanenza di una vera guida come il lion e Raffaello ho visto che la spedizione di tutti e due mira alla cena ad Emmaus nel Vangelo di Luca Gesù che non mangia il pane che spezza e dà ai due discepoli come si vede qui in queste bellissime immagini da Monreale diviene una sfida per coloro che rimangono sono costretti a creare da loro nella senza forse solo ipotetica di una guida divina una loro struttura cercando sempre di riempire uno spazio vuoto con qualcosa con qualcuno che possa farli sentire più coinvolti in una comunità di qualsiasi tipo qui va notato anche il fatto che il lione durante la seconda battaglia con il drago nel quarto cantare sta da parte per guardare a differenza dal lione nell'Orlando oppure quello di Crétien de Troyes non si è coinvolto per niente nelle attività dei tre cristiani questo forse è il mio forse è il mio ottavo preferito tutto il cantare quel lion che egli aveva manato si stette sempre di mezzo a vedere perché se fossi d'alcun domandato di questo fatto il voleva sapere ecco questo animale nobile il leone qui con cartillo in mano che è preso molto come fosse anche lui uno scrittore silenziosissimo non parla mai però magari forse scriva questo si trova nel museo dell'Opera del Duomo a Siena da una seguace di Giovanni Pisano verso l'anno 300 è un momento buffo parodico comico questo momento come dice Paolo Orvieto convinto della mancanza di un argomento più serio il voleva sapere e così voleva anche narrare per farsi poeta il lione verso la fine dell'articolo già citato è un articolo che è stato molto importante per me Rossella Bessi scriva dell'importanza del comico nel poema in quanto equivalente stilistico della terra e offre che sia la cifra che caratterizza questi terragni a volte ingoli ufiti paladini che in terra svolgano tra un moto e una preghiera la loro missione la studiosa continua con la descrizione di questo mondo dicendo che è un mondo fatto di boschi oscuri intricati all'interno del quale è impossibile muoversi per sentire dritto senza l'aiuto di Dio e forse aggiungere domanda anche senza l'aiuto del poeta e pucci il nostro leone che ci guida finché non siamo arrivati ad un certo punto e poi ci lascia perché dobbiamo noi far conoscere i lettori cavalieri del suo poema come combattere come agirsi insieme in un mondo così scuro e complicato un mondo fatto di boschi oscuri intricati in cui dobbiamo anche sapere leggere e ascoltare le tracce di una narrazione sempre più grande di noi per concludere voglio tornare agli ultimi riferimenti al libro di Tobia nel morgante originale cioè i primi 23 cantari tutti i due riferimenti sono trovati in un cantare che non discuteremo in questi giorni cioè il numero 17 avendo perso il compagno rinaldo orlando fa una preghiera non dissime a quello che lo fa rinaldo nel quarto cantare ma questa volta si tratta di un viaggio non di un combattimento con un dragone lui e orlando si sente completamente perso in questi boschi comincia a maledire la fotoneria e finalmente torna ad indirizzarsi verso Dio e lo vergine con la richiesta che Dio illumini la mente una frase che abbiamo già vista che lo guidi dov'è il mio fratello e poi il penultimo riferimento a Tobia nel morgante originale perché io vo per vie non conosciute come Tobia mi manda Raffaello che mi accompagni in sin che me lo insegni se prieghi me di grazie in te sono degni poi una voce si resta molto suave che pare da Cieli dicendo al tuo cammin varrito e saldo che sano e salvo troverai Rinaldo subito orlando sopra il cavallo fusolito trova la fanciulla la figlia pagana dal re Costanza e uscirono dalla selva e capitorno ad una grande città la voce si può paragonare a quella voce che aveva parlato Rinaldo nel quarto cantare l'uscita dalla selva può essere paragonata all'arrivo nella città di Carrara ma poi c'è l'ultimo verso del cantare e l'ultimo riferimento alla storia di Tobia come io dirò nell'altro cantarbello guardivi sempre l'agno Raffaello forse un riferimento solo casuale forse Pulci cercava una parola che diceva con bello e basta non abbiamo visto una guida nel cantare in questo cantare nessun angelo nessun leone ma è la donna stessa la figlia del re Costanzo che implorava Orlando di smettere con i suoi lamenti e tornare al vero Dio lasso dice lei lasso non ti disperare raccomandati a Dio giusto signore che non ci voglia così abbandonare forse nella presenza di campagni così una donna che nonostante la sua fede musulmana incoraggia il cavaliere di pregare il suo Dio non c'è bisogno di una guida che diventi un campagno per sempre oppure basta la voce ogni tanto le parole incoraggianti siano quelle di chi pare da celli siano quelle di una campagna bella e pagana oppure di un pulci che torna qui lo sguardo ai suoi lettori e prega per noi mentre noi ci ritroviamo sul grande viaggio del suo poema guardivi sempre l'agnor Raffaello chiaramente è meglio discutere in altre occasioni i vari modi in cui Polci tenta di inserirsi in questa compagnia anche troppo umana per ora spero solo di aver stimolato qualche riflessione sulla questione dell'obbligata Pulciana compresa la presenza della sua vera accompagnatrice Lucrezia Tonnoboni grazie dopo aver detto che lei di Pulci non sapeva niente è vero però la lettura che già ci ha proposto è una lettura molto impegnata molto stimolante e anche credo abbastanza inconsueta rispetto ai modi tradizionali di leggere Pulci e le sono anche grazie di aver ricordato il mio maestro Mario Fubini che ha scritto una cosa benissima sul Polci grazie grazie a lei bene possiamo cominciare a discutere magari chiederei a Jane di rimanere al tavolo e magari Alice se la vuole raggiungere sì sì perché così anche da casa vi vedono visto che si sta parlando di questo leone che ha colpito tutti questi quattro versi che sono già stati citati che vorrei rileggere sono veramente incisivi e significativi ma quelli che gli aveva menato si stente sempre di mezzo a vedere perché se fossi da alcun domandato di questo fatto il volea sapere sembra una battuta no la battuta di uno che già va da riempire un'ottava e ha detto così uno scherzo questo leone è curioso che se ne sta di mezzo perché voleva vedere perché casomai se qualcuno glielo avesse chiesto voleva riferirlo dico la verità mi è sempre sembrato un animale molto serio questo leone ma in un senso un po' diverso da quello che ci diceva la signora Tiles e cioè a me è sembrata un'immagine concreta di ciò che per uno scrittore c'è di più astratto cioè il pubblico soprattutto il pubblico dei lettori che naturalmente non dico che il Pulci non potesse vedere perché magari una parte almeno dei lettori erano direttamente nell'ambiente mediceo quindi poteva anche conoscerli ma visto il suo rapporto con i canterini il pubblico visibile ma certamente lontano dei presenti in piazza a me sembra che sia un'immagine concreta di un modo di chi ha Luigi di fare narrativa cioè quando lui rappresenta delle scene di battaglia e come in questo caso delle scene cruente le rappresenta sempre in modo che chi la legge gli sembra di essere nel mezzo quasi un effetto cinematografico in un certo senso come se lo spettatore il lettore l'uditore fosse portato dentro la scena e mi sembra che questo leone lo sintetizzi perfettamente perché è curioso vuol stare a vedere come i suoi spettatori come gli uditori o come il pubblico dei lettori è quello almeno che Pulci vorrebbe non so se questa cosa la condivide che mi sembra molto più legato ecco al al modo stesso di narrare del Pulci no assolutamente mi pare no grazie mille le osservazioni mi sembra di essere una cosa molto importante lui si trova proprio nel mezzo del suo pubblico cioè un pubblico qui forse non solo dei lettori ma anche ascoltatori che è una cosa bellissima quello che mi ha occupato molto è che il leone sia nell'Orlando che nel Ivan il leone non è il loro leone sono molto attivi cioè capito fanno tutti per questa battaglia aiutano tanti questi tre cavalieri mentre lui sta sempre da parte per narrare anche dopo il fatto cioè c'è anche questo molto interessante pensando qui come fosse anche uno spettatore magari un ascoltatore del poema stesso no grazie mille dell'intervento grazie mi volevo inserire proprio a questo proposito perché avevo avuto anch'io un'impressione analoga Davide Puccini proprio perché anche nel mio cantare per esempio non solo nelle battaglie anche nei duelli perché anche nel duello fra Orlando e Rinaldo a me aveva colpito e si vede bene proprio dal confronto con Orlando Laurenziano c'è questo gigante che Pulci ci tiene a dire stava come un pilastro mi pare proprio a osservare il duello e questo appunto c'è nell'Orlando Laurenziano e appunto fa vedere questa attenzione ai punti di vista cioè che è una cosa a cui l'impressione che mi sono fatto è una cosa a cui tiene molto Pulci anche il fatto del cambio di prospettiva vabbè in quel caso perché ci sono anche i punti di vista delle due amanti cioè delle due innamorate rispetto a Orlando e Rinaldo però è singolare che lui ci tenga a dire che c'è questo gigante che sta proprio come spettatore fermo come pilastro proprio per vedere quindi per testimoniare questa cosa solo questo penso che vada appunto ci siano conferme come spesso ci sono effetti anche di duplicazione nel morgante che vada in questa direzione direi io volevo io volevo ringraziare Gianna Tilos per la sua lettura così stimolante e da vari punti di vista perché appunto mette insieme l'horror vacui Bulciano e un tema davvero strutturante del poema perché se si dovesse dire che cosa ci racconta il morgante almeno il primo morgante direi anch'io che è una storia di una brigata di compagni che non riescono a stare da soli non riescono a stare insieme passano il tempo a cercarsi e a litigare quando si trovano e via di c'è e d'altra parte il appunto il rinvio alla brigata di 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 coloro che mangiano insieme il pane non possono far pensare a un'allusione polemica farsesca al al simposio che invece al simposio al simposio ok il simposio di coloro appunto che bevono insieme per fare filosofia che è appunto il contrario della brigata pulciana e mi chiedevo come in questo sistema si può collocare il un altro compagno animale dei paladini e cioè il grifone il grifone che accompagnerà Orlando nel cantare ventunesimo e e che è un simbolo cristico ancora più trasparente appunto come come grifone che mi pare venga designato come buono amico in modo quasi formulare buono amico e che però ha un comportamento un po' diverso perché mi pare partecipi attivamente ai combattimenti salvi Orlando in più di una di una circostanza e il confronto tra i due episodi mi fa ispira una domanda invece per Alice Ferrari che riguarda la ripetizione una ripetizione che è così importante nel Morgante e a provvedo della quale mi chiedevo se è sempre associata a un effetto comico diciamo o se ha invece una natura più 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 fisiologica diciamo nella struttura del poem ecco una domanda in realtà sono due no no tocca le tre ma no no allora sì e no dipende dipende un po' anche da come la si interpreta in questo caso il lettore che coglie la sfumatura comica ma di fatto l'episodio narrato è molto serio perché Rinaldo si infuria per una per una ragione degna di nota e quindi di per sé non è comico il fatto in sé è proprio la ripetizione ravvicinata però è anche vero che appunto l'argomento dei cantari è abbastanza circoscritto e quindi spesso anche in altri testi si ritrovano ripetizioni di questo tipo magari non così ravvicinate e magari non così accentuate proprio con l'uso degli stessi vocaboli è quello che di fronte a un autore come Pulci che non aveva certo problemi di lessico limitato diciamo quando Pulci usa le stesse parole gli stessi vocaboli nelle stesse situazioni è evidente che lo fa con intenzione perché appunto è noto per la sua grande varietà lessicale e quindi anche quando non sfrutta questa sua dote ci sta comunicando qualcosa e va notato anche quello secondo me grazie e Matteo mi dispiace perché ho avuto un po' di difficoltà non ho sentito bene la domanda se puoi rifarlo un pochino parte proprio sul simposio tutto quello magari sull'unica di Orlando magari la domanda l'unica domanda vera era una curiosità che riguarda questo episodio parallelo diciamo che coinvolge Orlando e il grifone il grifone ecco il grifone ecco la parola che non ho sentito no può essere sicuramente un legame fra questi due episodi mi pare assolutamente cosa ne pensi tu mi sembra che le le somiglianze siano evidenti che ci sia un effetto di ripetizione e volontà che alimenta il parallelismo tra i due personaggi a grande distanza in questo caso perché si tratta del ventunesimo cantare un parallelismo con delle differenze appunto che prendono senso mi pare alla luce del tuo discorso perché il grifone partecipa ai combattimenti di Orlando viene definito varie volte come buono amico e così mi chiedevo in che modo questo potesse entrare nel sistema sicuramente molto diverso tutti i due sono degli animi nobili diciamo infatti che si pensa infatti sono stata molto influenzata come dicevo dall'articolo della Bessi nel senso che lei crea un tipo di quasi bestiario cioè tutti gli animali che fanno che hanno questa importanza anche divina nel nel cantare particolarmente parlo del quarto cantare per fortuna però sicuramente anche il grifone che partecipa a un modo molto più come dicevi attivo nel poema sembra va considerato sicuramente in questo senso non lo so io sto pensando ancora a questo commento di Mirko sul quando Morgante è paragonato a un pilastro cioè questa sensibilità molto acuta di porci pensare sempre al modo in cui sì la prospettiva si cambia si può cambiare molto facilmente mentre il grifone che fa parte dell'attività che fa parte del battaglio e tutto quello ma poi anche lui sperisce mi ricordo benissimo tutti i dettagli però ovviamente ci sono diversi muri in cui partecipano nel poema a questi animali divini oppure anche giganti perché è un'altra domanda che ho fatto a me stessa ma anche i giganti sono compagni loro visto che non ho parlato del primo secondo terzo accantare questo non è mia roba però dall'altra parte pensavo sì Morgante ma come c'entra questo sarebbe per me una domanda fondamentale no ma grazie ci penso più a grifone sì beh anch'io ringrazio per questi due bellissimi interventi magari del leone insomma ne abbiamo già parlato tanto quindi rinuncio per ora dire così qualcosa in più invece volevo porre un tema che forse non è venuto ancora fuori pienamente soprattutto nel quarto nel quarto cantare cioè il tema dell'amore che insomma perché tanto c'è la ripetizione della stessa frase che viene citata no dalla nel terzo nel terzo cantare da parte da parte di Orlando per vagheggiare non venimmo in Levante la stessa cosa però è quella che risponde Rinaldo a Olivieri nel quarto all'ottava 90 ai primi versi non fu di vagheggiare nostra intenzione ma di cercare e quindi insomma c'è da parte di entrambi il rifiuto dell'amore definito banalmente un vagheggiare ora Orlando appunto non se lo sogna neanche quindi nonostante nonostante la bellezza della treccia di meridiana che viene fuori e che viene descritta quel modo iperbolico con tutte le correzioni anzi 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 un paragone sempre più grande da parte del poeta invece Orlando non gli può fregar di meno e quindi non siamo venuti qua per vagheggiare e mentre Rinaldo all'inizio invece c'è entrato proprio per vagheggiare cioè si è messo lì proprio perché aveva sentito di quanto era bella Forisena e quindi ha detto andiamo a ammazzare sta vipera che magari c'è da far del bene come dicono a Bologna un ipocrito un po' quando invece si accorge che Ulivieri anche lui ha buttato l'occhio sulla sulla ragazzina dice quella frase molto bella che è stata citata saremmo due impronti ad un tagliere e quindi inizia a esserci questo questo contatto tra il tema erotico e il tema alimentare che in effetti è molto interessante questo contatto poi da parte di Ulivieri viene sviluppato secondo me in modo un po' particolare perché Forisena è destinata a essere cibo per la vipera drago ecco perché lui dice non è cibo da vipera ma invece da un amante fedele gentile però ecco un amante fedele gentile non un così un seduttore un seduttore quindi e Rinaldo nel momento in cui si rende conto che il sentimento di Ulivieri un sentimento autentico si tira indietro ecco in qualche modo dimossa beh questo è giovane innamorato che mi metto io qui a fare il e capisce che d'altra parte davanti a un amore così sincero non c'è gara infatti Forisena subito lo ricambiano in base alla legge che è dantesca che viene citata quindi dentro questo ecco c'è quella citazione molto bella che tu hai segnalato di Petrarca quindi il rifiuto sì della solitudine che poi porta all'ossessione amorosa sicuramente c'è questo elemento della solitudine e della compagnia che ti aiuta a non entrare in questa ossessione però voglio dire su questa ossessione si è costruito il 90% della letteratura italiana tutto 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 Petrarca e quindi ecco forse è un rifiuto cioè si dà uno spazio molto ampio a questa storia d'amore poi la si fa finire in quel modo brutale ma c'è anche la presa di distanza ideologica che mi sembra piuttosto interessante e quindi collegarla a quel riferimento a Petrarca può essere proprio un rifiuto di tutta quella letteratura di tutta quella ideologia letteraria dell'amore e insomma mi sembra piuttosto interessante poi il contatto col cibo mi sembra molto bello ti ho offerto tanti elementi però ecco l'amore secondo me andrebbe tenuto maggior considerazione e visto poi in considerazione col tema alimentare che ci fa grazie mille grazie mille dell'intervento infatti volevo visto che hai già parlato molto troppo volevo tanto fare riferimenti o anche riferimenti al quinto canto dell'inferro perché chiaramente lei viene Francesca lui forse in pallo e poi e poi niente allora sarebbe molto bello fare molto di più con il canone letterario dell'amore in questo momento chiaramente c'è un agame molto forte magari aggiungo due domandine io per entrambe le relazioni e allora volevo chiedere Alice ma mi ha colpito molto il parallelo che hai stabilito con l'episodio di Frate Alberico che appunto poi ritorna nel Morgante tra l'altro legato al tema del tradimento che è un altro grandissimo tema appunto del poema quindi con la figura di Gano e allora niente ti volevo soltanto chiedere se potevi un attimo magari di ampliare su questo quindi come diciamo nell'episodio di Brunoro diciamo in quella parte appunto del banchetto emerge diciamo il tema del tradimento evocato anche dal parallelo con Frate Alberico e invece a Jane innanzitutto anche io la volevo ringraziare per questa relazione e mi ha colpito molto diciamo proprio la tangenza molto forte fra l'inizio del Morgante quindi l'appello all'angelo come guida e invece l'inizio dell'opera di Lucrezia Tornabuoni cioè a me era sempre sembrato molto topico quell'appello all'angelo come guida però insomma considerato che viene da un'opera della Tornabuoni appunto che era la protettrice del poeta un'opera dedicata appunto all'angelo Tubia mi sembra appunto un parallelismo molto forte e allora ti volevo chiedere diciamo qualche notizia sulla circolazione delle opere della Tornabuoni quindi magari la datazione so che è particolarmente complessa sicuramente Pulci le va lette però appunto se ci puoi dire qualcosa su magari il periodo e insomma il tipo di circolazione che hanno avuto queste opere grazie posso dare una risposta molto veloce poi tocca lì no solo perché a questo punto siamo nel 1461-162 è vero non è chiaro che lei avesse già cominciato a scrivere le sue poesie magari qualche lare qualcosa del genere ma non è tanto chiaro che sono già in circolazione per dire niente proprio dell'inizio di questo progetto che è stato un progetto più rossi formidabile almeno cinque libri dalla Bibbia in più perché ovviamente a questo punto non ci sono tutti i libri della Tornabuoni esistenti ancora sono spariti ovviamente quella vita di Maria e poi quella di Israele e magari altra roba che noi non abbiamo per dire solo che magari forse è stata lei leggere i Pulci leggere il Morgante e poi scrivere le sue invocazioni al Dio per mandarle e l'angelo e Raffaello non si sa sicuramente ma io penso che Pulci abbia scritto prima della Tornabuoni che lei dopo magari forse dopo la morte del marito 69 70 71 tutto quello magari sarebbe stato il periodo giusto in cui lei potesse finalmente scrivere le sue cose cioè in questo rapporto io trovo una cosa molto fascinante però è possibile che lei abbia imparato tanto da Pulci stesso su quello ultima parola allora nel cantare venticinquesimo l'episodio di frate alberico è rievocato appunto per descrivere il tradimento perché le frutte amare di frate alberico era quasi diventato un modo proverbiale per la diffusione del testo di Dante lì si riferisce naturalmente al tradimento ordito nei confronti di Orlando gli era stato detto che sarebbe dovuto andare a Roncisvalle per andare incontro a Marsiglio e per ricevere un tributo per appunto l'onore che aveva dimostrato in battaglia invece come tutti sappiamo era di stata tratta un'imboscata e da lì insomma inizierà la battaglia di Roncisvalle arriverà la morte di Orlando e ho fatto riferimento a quel passo non tanto per rievocare il tradimento che secondo me nel terzo cantare non c'è ma proprio per dimostrare cioè come dimostrazione del fatto che il pulci conoscesse bene quel passo e probabilmente anche l'uso proverbiale del termine credo che l'uso di le frutte dopo al mangiare sia proprio quello di volersi legare alla diffusione proverbiale del sintagma ecco è una cosa che andrebbe approfondita ma forse potrebbe proprio essere nato anche in Dante anche il modo di dire di dare le frutte da intendere come dare le botte cioè dalla diffusione di questo proverbio riferito alla vicenda di Frasi Alberico questo traslato delle botte che possono indicare cioè delle frutte scusate che possono indicare proprio le botte però andrebbe fatta una ricerca più approfondita e anche difficile da fare perché quando si parla di espressioni modi di dire popolari noi possiamo fare delle ricerche sui testi che conosciamo ma naturalmente quello che è giunto fino a noi è una minima parte di quello che in realtà c'era all'epoca quindi è anche difficile fare delle considerazioni di questo genere solo una piccola aggiunta ti può essere utile nel quinto cantare appunto mi veniva in mente perché l'ho letto un paio di volte negli ultimi tempi c'è di nuovo questa espressione forse c'è anche tanti altri altri volte non la ricordo sì sì c'è in tutto il poema questa qua mi viene in mente perché nel cantare successivo o in quello nel cantare dopo e perché è nei confronti di di diciamo questo uomo salvatico insomma che come vedremo domani è una figura di 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 fraudolento di di traditore in un senso ampio in un senso tecnico dantesco ma comunque e quindi e soltanto nel momento in cui Rinaldo proprio in furia per per il tradimento e le frodi subite da da questo che decide insomma di di chi io gli darò le frutte a cena ecco può essere un così qualche caso può vedere se in questi casi c'è magari ecco la rivendicazione di punire un traditore o chi ha colpito a tradimento e quindi insomma essere collegato in qualche modo a questa origine non solo semplicemente come dare una punizione ma darla specificamente a un traditore però lei sicuramente ne sa più mi sembrava quella espressione lì di averla esaminata tra i dantismi no perché come al solito diventano poi delle formule ma quello che ora mi chiedevo è se vedersi essere alla frutta non significa però neanche nel morgante credo necessariamente collegata le botte ma a rendi conto cioè come poi no quindi anche quell'indagine lì andrebbe un po' fatta non cioè in quel caso lì le frutta gli donai eccetera è come la sorbe tutte quelle no varie espressioni per indicare le botte però credo che questa espressione ricorra anche con quel significato più comune che ha cioè vedersi alla frutta cioè essere all'estrema alla resa di conti ecco ho questa impressione qui beh forse per oggi siamo alla frutta quindi grazie a tutti e a domani grazie